Benché il corpo sia qui, il cuore è lì di continuo. Così scriveva Cristoforo Colombo da Siviglia ai protettori del Banco di San Giorgio nel 1502. Cristoforo Colombo nasce a Genova nel 1451. Il 3 agosto 1492, dopo aver chiesto e ottenuto mandato dai re cattolici, parte da Palos, in Spagna, con la nave Santa Maria e le due caravelle Pinta e Nigna. Il 12 ottobre dello stesso anno arriva nell'arcipelago delle attuali Bahamas e a Proda, San Salvador. È il primo di quattro viaggi, durante i quali ha incontrato terre e popolazioni sconosciute al vecchio mondo. Caraibi, coste dell'attuale Venezuela e America centrale. Cristoforo Colombo è stato un uomo del suo tempo. La sua figura è fatta di luci e di ombre, ma il gesto da lui compiuto, che ha aperto il mondo alla modernità, rivela la personalità di un uomo non solo esperto del mare, ma curioso del mondo e per questo capace di affrontare ogni rischio. Per questo oggi Colombo è un simbolo per l'Italia e per la sua città, Genova. Genova, città di mare, principale porto del Mediterraneo, centro di eccellenza per la formazione marittima e navale, porta d'Europa aperta al mondo, alle persone e ai commerci. Ieri, centro di innovazione tecnica e finanziaria, una ricchezza che Genova ha saputo investire in un patrimonio culturale fuori dal comune. Oggi, centro di ricerca scientifica, tecnologie avanzate, connessioni, città di lavoro, cultura, turismo, sport, anche nel segno di Cristoforo Colombo. Il nuovo centro studi colombiano è nato su iniziativa del comune di Genova, in partenariato con Fondazione Casa America ETS, per rilanciare anche su base internazionale, la ricerca e l'iniziativa su Cristoforo Colombo e la sua epoca, collegandosi all'attualità insieme a scuole, università, centri di ricerca e istituzioni culturali. Genova, città nobile e poterosa, por la mar. Deia salì, ieneia nascì. Un applausino a questo video ci vorrebbe, no? Cosa dite? Mi sembra carino, ben fatto, mi ha ringraziare Liguria Digitale, il centro studi colombiano, Carlotta Gualco, che lo hanno impostato e realizzato. Dunque, grazie, benvenuti, ringrazio tutti i partecipanti, i relatori, le istituzioni presenti e che interverranno. Vi presenterò tutti tra poco. Voglio solo iniziare con qualche considerazione e spiegazione di questo incontro. Qualche settimana fa si sono riuniti gli organismi del centro studi colombiano, il comitato scientifico e il comitato di indirizzo, che dopo aver dato un giudizio positivo sulle attività svolte quest'anno, ben sette iniziative pubbliche, una ancora in corso, che è un corso, scusate il bisticcio, rivolto a insegnanti, in presenza e in remoto, sono circa 40 i partecipanti, di aggiornamento su Colombo e l'età delle scoperte, che mi sembra un'idea importante e interessante. Ma si sono assieme proposti di rilanciare il centro e le sue attività per il prossimo anno, che sarà il secondo dalla sua Costituzione. Per fare questo, c'è bisogno di poter contare su una sede pienamente operativa a Palazzo Ducale. Oggi non lo è ancora. Ed è necessario definire un programma dettagliato per il prossimo anno, che abbia una copertura finanziaria certa e disponibile dall'inizio. Abbiamo concordato recentemente con il Sindaco, il Comune che oggi, si scusa, non può essere presente, ma sarà ben rappresentato, il Comune parte costitutiva e fondativa del centro, che entro novembre presenteremo un programma e un piano finanziario dettagliato per il 2024. E così faremo. L'iniziativa di oggi rappresenta il lancio di quella attività che gli organismi hanno individuato come fondamentale per i prossimi mesi. una rassegna, cioè, e un approfondimento interdisciplinare sulla personalità di Cristoforo Colombo e sul significato della sua impresa nell'età dell'esplorazione e delle scoperte. cioè, tradotto, vogliamo analizzare come è stato rappresentato Colombo nei diversi settori della cultura e che cosa rimane oggi di quella grande produzione artistica e della creatività che ne è stata alla base. Partendo dal fatto che Colombo è stato, forse, la personalità della storia più rappresentata, discussa, indagata in tutte le epoche. C'è un libro di Sandro Dini del 1992 Cristoforo Colombo, quindi un po' più antico La realtà e l'enigma che è aperto da una prefazione di Alberto Latuada grande regista che scrive, tra l'altro L'autore Dini si chiede paradossalmente se Colombo sia mai esistito o se sia solo mito leggenda come Icaro Omero Ulisse E' comprensibile, aggiunge perché Colombo è per un lettore comune una specie di personaggio misterioso Basta pensare aggiungo che non esiste un ritratto di Colombo se non mi sbaglio mentre era in vita e che quelli seguenti a cominciare dal Cinquecento offrono rappresentazioni diversissime di Colombo Si può dire che non c'è un vero suo ritratto e che nonostante alcune poche descrizioni per iscritto del suo viso e della struttura fisica del grande navigatore soprattutto di Bartolomeo de la Scasas i ritratti più famosi sono molto differenti o addirittura opposti le opere di Sebastiano del Piombo del Ghirlandaio di Lorenzo Lotti di Aliprando Capriolo per dire solo alcune delle tante se non avessero l'indicazione del nome Colombo sembrerebbero ritrarre le persone più disparate questa almeno è la mia opinione Continua la tuada Colombo è stato un uomo nel senso più concreto della parola sanguigno impulsivo e pragmatico pertinace e volubile avido e generoso battagliero e fragile personaggio gigantesco un folle tra virgolette ossessionato dal sogno apparentemente impossibile di buscare il levante e por il poniente proprio questa sua contraddittorietà questa sua carnalità questa sua grandezza senza confini in contrasto con l'immagine vaga e nebulosa che di lui aveva il grande pubblico mi ha spinto dice la tuada anni or sono a realizzare il film tv su di lui sono le parole perché le ho citate così ampiamente di un uomo di cinema di rappresentazione di un regista che cerca di riprodurre non solo la storia ma l'uomo la personalità e di trarne il segno la sintesi se guardiamo a un libro più recente a un altro autore il primo era un giornalista questo è uno storico cioè a giulio busi del 2020 scrive busi cristoforo il titolo è il colombo il marinaio dei segreti sempre un po' misteriosi troviamo un'altra descrizione solitario scontroso testardo un eroe romantico capace di superare quasi senza aiuti ogni avversità un bell'uomo dice busi volitivo dotato di grande fascino personale un genio intrattabile un grande parlatore e un cavaliere senza paura e spesso senza pietà colombo fu probabilmente anche tutto questo ma se fosse stato solo questo la sua impresa sarebbe rimasta al massimo un romanzo di gesta sullo sfondo di mari esotici la verità è più complessa dietro l'eroe solitario si stende la rete fitta delle amicizie dei protettori e perché no degli investitori che puntano su di lui alla passione al coraggio tipici di colombo qualche volta si uniscono violenza soprafazione tradimento troppo umili le origini di cristoforo troppa la sproporzione tra il telaio del padre domenico e l'autorevolezza del figlio ma è di sproporzioni che vive la realtà e di squilibri si nutre anche la vicenda colombiana cristoforo mette piede a genova come ci dicono gli storici per l'ultima volta nel 1479 a 28 anni ma la forza di colombo sta proprio nella lontananza nel non appartenere è un cosmopolitismo di incontri di esperienze e di competenze quello di cristoforo è un mondo smisurato e aperto come il mare e come il mare può essere minaccioso estraneo mortale parole forti ma interessanti affascinanti queste sono solo altre alcune interpretazioni altre possono essere proposte e discusse e dovranno essere proposte e discusse personalmente penso ma credo che sia un sentire comune che non sia più il caso di sprecare troppe energie a contrastare le molte improvvisazioni i campanilismi le furbizie sulla nascita la vita la morte i viaggi di Colombo certo se necessario un centro colombiano deve diventare anche un punto di riflessione di dialogo di richiamo a ciò che è stato accertato scientificamente ecco però in cinque secoli è stato scritto su quegli aspetti tutto forse ed accertata con esattezza pensiamo l'origine la nascita la vita e le imprese di Colombo è ora di prenderci una pausa e caso mai su questi punti è caso mai di pensare alla divulgazione del certo su di lui nella scuola e nella società scegliamo allora questa è la mia opinione di utilizzare le energie della ricerca del dibattito dell'approfondimento verso nuove frontiere su questioni che ci sembrano interessanti e non sufficientemente analizzate qual è appunto l'immagine di Colombo nei diversi secoli e nei diversi settori della creatività culturale nella musica nell'arte figurativa nel cinema nel teatro nella letteratura e anche forse in altri settori che oggi non abbiamo considerato per questo vorremmo chiamare a raccolta competenze punti di vista studi e studiosi per proporre riflessioni pubbliche e cercare ciò che di interessante e di emozionante c'è in quelle rappresentazioni e ciò che di valido ed importante rimane ancora oggi questo lavoro dei prossimi mesi del prossimo anno ci aiuterà a scegliere il taglio l'approccio più veritiero e più utile per organizzare tra due anni o poco più questo è il nostro obiettivo se ci riusciremo una grande mostra su Cristoforo Colombo e quel periodo delle esplorazioni e delle scoperte che è stato fondamentale per la storia del mondo ci proponiamo un obiettivo ambizioso capire noi prima ancora di trasmettere agli altri che dovrebbe essere normale ma non sempre cosa c'è di universale e di attuale se c'è in quelle vicende e in quella produzione culturale ci interessa non solo ciò che Colombo è stato realmente ma anche come è stato visto e vissuto in Italia naturalmente ma anche in porzioni del vecchio e del nuovo mondo un lavoro appassionante secondo me che può ridare slancio alla ricerca e al dibattito pubblico e questo è il nostro obiettivo grazie debbo dire che sono presenti e li ringrazio tra gli altri Paolo Addari che è un commissario in rappresentanza del questore Barbara Grosso che poi prenderà la parola in rappresentanza del comune Massimiliano Nannini che è ammiraglio dell'istituto idrografico della Marina Nicolini Jessica non la vedo ah ecco scusami non ti avevo visto che è in rappresentanza di regione Liguria che prenderà la parola Piero Pellizzari direttore marittimo della Liguria Laura Repetto della città metropolitana ringrazio tutti i presenti e quelli che ho citato in modo particolare naturalmente avendoli citati però ringrazio tutti voi sapete che questo incontro si svolge questa mattina e oggi pomeriggio cominciamo quindi prima con i saluti per obbligo e dovere e piacere di ospitalità la prima a cui vorrei dare la parola è Barbara Grosso che rappresenta il comune e parla a nome del sindaco che oggi non può essere presente prego buongiorno a tutti grazie Marco è per me è un piacere essere qui oggi per tanti motivi innanzitutto perché sono un po' di anni che si lavora a questo progetto e so quanto loro ci tengano e con quanta energia con quanta passione ogni anno si pensa di costruire un programma davvero ricco di momenti che possano raccontare possano riportarci o farci conoscere dei nuovi punti di vista e delle nuove idee su quello che era la figura di Cristoforo Colombo ecco credo che oggi in particolar modo questa giornata ci porti a riflettere su su quello che in realtà Cristoforo Colombo ci ha restituito e forse ha restituito perché poi il binomio è sempre un andare e un tornare no è sempre è sempre bilaterale ecco con la scoperta con questo suo viaggio che poi sia vissuto sia veramente vera la figura come diceva prima il dottor speciale la figura di Colombo per noi quello che è importante è sapere che quest'uomo che ha fatto questo viaggio che ha avuto questo grande progetto io a me piace sempre raccontarlo ogni anno chi mi conosce lo sa che aveva questo grande sogno e l'ha realizzato con grande capabilità con grande volontà interconnettendo mondi diversi si arriva sempre a scambiarsi idee e a conoscere a imparare e forse a realizzare quello che poi conoscenze che che poi ancora tutt'oggi noi ci portiamo quindi interconnettere mondi diversi come ha fatto lui con questo viaggio venendo a conoscere usi costumi nel mondo della cultura ma nel mondo del cibo nel mondo delle relazioni più legate al mondo del commercio eccetera ha permesso che si imparassero e si importassero nel suo viaggio di ritorno delle conoscenze che ancora tutt'oggi fanno parte del nostro bagaglio culturale ma che magari noi non pensiamo che arrivino da così lontano e quindi credo e faccio i complimenti per la scelta di questa giornata perché forse per la prima volta e forse anche perché abbiamo un centro studi colombiano con una sede che lavora costantemente si è arrivato a raccontare a puntualizzare e a relazionarsi su degli aspetti che forse sono meno conosciuti tutti noi passiamo a Cristoforo Colombo ha fatto questo viaggio ha interconnesso mondi e poi abbiamo una visione che non era così approfondita forse che non toccava tante tematiche così diverse come questa io che cosa posso dire che noi siamo accanto al centro studi colombiano come amministrazione so che lo è anche la città metropolitana la regione Liguria vogliamo lavorare insieme a loro e speriamo che anche ecco il prossimo anno si aggiunga un pezzettino ancora in più rispetto a tutta quella che può essere un lavoro fatto di relazioni di squadra di studi di approfondimenti insieme anche mi sono scordata sicuramente anche insieme all'università di Genova e speriamo ecco appunto che si possa continuare in questa direzione grazie a tutti e buona giornata grazie grazie Barbara vorrei dare la parola a Silvia Martini che rappresenta l'autorità di sistema portuale del Malle Ligure occidentale è lunghissima la cosa ma insomma l'autorità portuale prego Silvia Martini buongiorno a tutti sì sì è un acronimo difficile devo dire allora io porto il saluto del nostro commissario straordinario Paolo Piacenza che oggi non è potuto intervenire per precedenti impegni istituzionali ecco il nostro ex presidente Paolo Emilio Signorini aveva colto con grande favore con molto interesse la nascita del centro studi colombiano e il convegno quindi che oggi avete abbiamo organizzato mi pregio nell'onore di far parte del comitato di indirizzo il convegno che abbiamo organizzato qui a Tursi quindi un sostegno importante che il nostro ente ovviamente conferma ecco l'autorità di sistema portuale l'autorità portuale ha avviato tutta una serie di iniziative legate a quello che può essere declinato come sostenibilità perché come sapete la sostenibilità non è soltanto ambientale ma all'interno dell'agenda 2030 la sostenibilità culturale e l'accesso alla cultura e all'istruzione sono punti fondamentali ecco l'autorità portuale sta lavorando in questo senso e sta organizzando molte iniziative numerose iniziative legate al mondo della cultura vedo qui l'ingegner Capocaccia che saluto che è il presidente del centro internazionale di studi sull'emigrazione italiana è un'iniziativa che sosteniamo insieme al centro studi e poi ne approfitto perché credo che questa sia una platea sensibile e ricettiva uno forse il più importante progetto che stiamo portando avanti è il il riordino e la valorizzazione dell'archivio storico del porto che come sapete racconta almeno 150 anni di vita portuale mi approfitto per invitarvi perché domenica saremo presenti con l'archivio storico del porto proprio al book pride di Palazzo Ducale colgo l'occasione per ringraziare ovviamente Roberto Speciale e soprattutto Carlotta Gualco che è la nostra coordinatrice e che ogni tanto giustamente ci tira le orecchie quando ci distraiamo ma insomma ha un coordinamento assolutamente magistrale di questa iniziativa grazie a tutti e buon lavoro grazie l'ultimo l'ultimo saluto che a quale vorrei dare la parola è Jessica Nicolini che è coordinatrice delle politiche culturali della regione Liguria e dopo iniziamo con le relazioni la prima è Serena Bertolucci buongiorno a tutti grazie dell'invito sono molto contenta di essere qui in rappresentanza di regione Liguria intanto per ringraziare Casa America Roberto Speciale per l'impegno che mettono nel valorizzare Genova e la Liguria del mondo e poi per soffermarmi su questa giornata molto interessante già nel titolo immaginario su Cristoforo Colombo che racchiude un po' tutto il senso della giornata da un lato la storia il passato grazie anche all'analisi di ospiti illustri che ci saranno questa mattina ma anche questa storia e questo passato che aprirà la mente verso nuove rotte appunto verso nuove idee per valorizzare la figura di quello che è il nostro cittadino più illustre quindi benvenga la mostra su Cristoforo Colombo e benvengano tutte le idee che emergeranno dopo questa giornata importante mi piace anche ricordare che Regione Liguria da sempre attenta alla figura di Cristoforo Colombo nel 2009 consegnò quella che era la fondazione Cristoforo Colombo con dei preziosissimi materiali tra cui la collezione Walson alla fondazione di Palazzo Ducale quindi un patrimonio che è di tutti un patrimonio che è da valorizzare e con giornate come queste e con tutte le iniziative che vedranno sempre Regione Liguria dalla vostra parte quindi buon lavoro grazie al comune che ci ospita oggi grazie alla fondazione America e viva Cristoforo Colombo grazie Jessica Nicolini allora come sapete questa mattina abbiamo le relazioni Colombo nell'arte Colombo nella storia Colombo nella letteratura e poi oggi pomeriggio vedremo dalle due e mezzo mi pare due e mezzo ricominciamo con Serena Bertolucci direttrice della fondazione per la cultura di Palazzo Ducale mi pare che il suo titolo sia la scoperta riscoperta Cristoforo Colombo nella storia dell'arte prego grazie mille grazie per l'invito un caro saluto a tutti voi alle colleghe del castello di Albertis io sono qui per fare un tentativo disperato nel senso che vorrei convincervi che la mia disciplina è la disciplina più multimediale che esista oggi e che per questo si presta a fare dei ragionamenti come quello che proverò a fare con voi nei venti minuti che mi sono stati dati e quindi non parlerò anche perché l'ha già fatto il presidente dei ritratti di Cristoforo Colombo perché questa cosa in questo momento non mi interessa c'è uno storico dell'arte famosa un teorico che si chiama Pomian che per noi è fondamentale che sostiene una cosa circa gli oggetti del museo e cioè che sono semiofori quello vuol dire semplicemente che portano dentro loro stessi non solo il significato che hanno ma anche tante narrazioni una dietro l'altra quindi se noi abbiamo a che fare con un oggetto o nel caso come un'icona come è diventato Cristoforo Colombo dobbiamo essere pronti ad affrontare il fatto che ci prenderà e ci porterà verso una marea di narrazioni quindi provo a vedere se questa cosa funziona sì la professoressa Eraldi che è una delle più grandi studiose di Colombo che abbiamo scrive spesso che Colombo era già stato messo in discussione 500 anni fa quindi non ci deve stupire ciò che sta succedendo ma ci deve far riflettere che è una figura complessa sostanziale e come dice la professoressa è probabilmente l'ultimo uomo del medioevo il primo dell'età moderna forse sì tanto è vero che tutti noi credo abbiamo studiato a scuola che col 1492 inizia l'età moderna è una convenzione certamente ma questo ci deve far riflettere dicevo non vi parlerò dei ritratti vi faccio vedere solamente questo perché è molto particolare perché è un ritratto fatto appositamente per i genovesi come leggete sulla scritta come è stato divulgato perché il Marchese di Negro Villetta di Negro che abbiamo qui aveva una villa che era un cenacolo di artisti e di opere d'arte decide di fare assolutamente un ritratto molto inconsueto di Cristoforo Colombo che fa divulgare attraverso una litografia all'epoca ovviamente la fotografia non c'era quindi si parlava attraverso questo modo di riproduzione con una dedica proprio precisa ai genovesi perché in quel momento lì Cristoforo Colombo comincia a essere qualcosa d'altro rispetto a se stesso cioè comincia ad essere un contenitore di significati differenti avevamo già dei precedenti importanti e qua mi autocito ancora per poco sono direttore di Palazzo Ducale quindi mi fa piacere farvi vedere la cappella del Doge che credo che tutti conosciate ed è la cappella religiosa più laica credo che esista in Italia che invece di Santi contiene eroi e contiene una e contiene una rappresentazione di Cristoforo Colombo anche qui siamo dopo la metà del Seicento già usato non in quanto Cristoforo Colombo ma in quanto Cristoforo cioè portatore della religione per questo inserito in una chiesa con un sacco di citazioni la cosa più singolare che rispetta esattamente quanto scritto nelle Sacre Scritture e se vedete nell'angolo che tutta la vostra sinistra si vedono delle persone che sono intente a distruggere delle statue questo perché l'idea era che il cristianesimo doveva portare alla distruzione degli idoli è molto singolare pensare che all'epoca si pensasse che gli idoli dei nativi americani fossero delle statue di marmo di Carrara e non altro ma questo ve lo faccio notare per dirvi che l'arte parla attraverso dei canoni che noi che siamo i destinatari dobbiamo essere in grado di ricevere ma ecco qui invece entro nell'argomento di cui volevo parlarvi che cosa accade? accade che il mito di Cristoforo Colombo cioè Cristoforo Colombo usato per raccontare altro cioè per essere semioforo di qualcosa comincia alla fine del settecento è una cosa recentissima in realtà rispetto alla data della sua azione e comincia con questo dipinto che forse non molti conoscono perché l'autore non è molto conosciuto che si chiama Pelagio Palagi ed è e non vi dico il titolo vero perché è quasi come l'indicazione dell'autorità portuale lunghissimo che comunque sintetizziamo come la partenza di Colombo perché ve lo faccio vedere che cosa cambia questo quadro viene commissionato dal Marchese Trivulzio quindi parliamo dell'artissima aristocrazia milanese quando è prigioniero allo Spielberg ed è un dipinto che viene fatto apposta all'epoca i messaggi per chi per chi poteva permettere se stava chiuso in prigione perché era un carbonaro perché si ribellava Aldo Minostriaco erano fatti attraverso delle committenze importanti e questo quadro viene commissionato insieme a un altro quadro che è di Francesco Hayez altro pittore famosissimo lui sì dell'epoca che è Pietro Rossi che parte ciò che cosa fa Trivulzio? Mette improvvisamente sotto gli occhi di tutti due quadri che parlano di due partenze di due persone che in un modo o nell'altro si sacrificano per la propria comunità quindi in questo momento il messaggio è che Cristoforo Colombo diventa siamo all'inizio dell'Ottocento icona di chi si sacrifica per la patria quando ancora addirittura un'idea di patria non c'era e questa è una committenza importantissima che sarà molto famosa vi faccio vedere che è assolutamente un melodramma altro momento nell'arte in cui si useranno in questo caso le note musicali per trasmettere messaggi politici ecco questo qua ve lo faccio vedere così questo è l'altro quadro già vedete le differenze tra i due pelaggi è proprio più teatrale è la grande la grande opera altra cosa altro tema questo è Cristoforo Colombo che incontra i nativi l'autore Gallo Gallina tanto per dirvi Gallo Gallina era la Ferrari degli incisori all'epoca non so è quello che per esempio fa le incisioni dei promessi sposi di Manzoni quindi insomma parliamo e e fa questa è tutta una serie di incisioni che guardano invece a un altro aspetto attraverso quale passa l'icona Cristoforo Colombo cioè il mito del buon selvaggio perché cosa accade tra la fine del settecento e dell'ottocento accade che si mette grazie a Rousseau a dei grandissimi filosofi si rafforza questa convinzione l'uomo originariamente è buono è buono è la civiltà che lo condiziona che lo fa che lo fa cambiare e Cristoforo Colombo che può incontrare veramente davvero il buon selvaggio è usato come testimone di questo già una cosa complessissima perché vede la civiltà cattiva e il primitivismo buono ma pensate questo riportato a idee religiose per esempio sembra voler dire che l'idea del peccato originale non ci sia più quindi perché vi faccio questi discorsi perché davvero partendo da una persona si può andare spaziare attraverso moltissime moltissime discipline anche perché vi dico in realtà il buon selvaggio è un po' dappertutto qui vi faccio vedere solo alcune cose alcune più note quella al centro per esempio è un'incisione di Paul et Virginie che è questo romanzo che riguarda appunto quest'idea di persone che ritornano alla natura e quindi sono più buone quello più verso sinistra lo cito perché in uno dei musei che ho avuto il privilegio di dirigere è Atalà poco conosciuto da Chateaubriand uno dei più grandi scrittori del XIX secolo scrive moltissimo intorno a quest'idea del fatto che l'incontro tra selvaggio e civiltà può anche produrre dei risultati straordinari però spesso avversati della civiltà stessa lì sono due giovani che si incontrano lui selvaggio lei bianca cattolica non si possono sposare però piuttosto che veder finire così malamente al loro amore lei muore addirittura siamo in pieno romanticismo la cosa che vi stupirà che è l'ultima è che anche Frankenstein di Mary Shelley Mary Shelley è stata anche in Liguria è stata qui a Genova ne parliamo anche durante Book Pride capitale del libro anche Frankenstein quando nasce e noi lo pensiamo con la visione del mostro che siamo abituati a vedere al cinema nasce come idea del buon selvaggio cioè di un ritorno indietro della creatura che fondamentalmente è buona ma viene mutata dall'uomo e questa era l'idea che Mary Shelley aveva e che portava con sé vado più avanti vi parlavo dell'accezione religiosa che continua che è importante e che porta anche a discussioni a discussioni interessanti questa è un'altra cosa che abbiamo rivelato con il Presidente e con Carlotta l'anno scorso perché è a Palazzo Ducale ma non si vede perché è completamente in ombra rifatta dopo l'incendio che mostra addirittura come la figura che voi vedete in mezzo è la fede è la religione e Cristoforo Colombo è una comparsa alla sua alla sua destra ma l'ultima cosa che voglio provare a raccontarvi molto velocemente facendovi vedere una scoperta vera e propria questo è un dipinto che a Washington al Campidoglio c'è proprio la scoperta vera di Colombo che scopre la giovane nativa è il ruolo non trascurabile anzi assolutamente fondamentale che ha l'iconografia di Cristoforo Colombo e il personaggio di Cristoforo Colombo nell'ambito della rivoluzione americana e poi della comunità americana e su questo anche vale la pena di fare una riflessione da dove nasce anche lì il mito recentissimo noi magari abbiamo idea che anche questo in America si è radicato invece avviene nel momento della rivoluzione quando c'è il distacco dalla madre patria quindi siamo alla fine del settecento si deve trovare un mito che sia più amichevole non è più possibile che Hudson sia il mito americano perché proviene dal nord e allora ci si indirizza lì ci si indirizza verso Cristoforo Colombo che aveva in sé tutte le caratteristiche giuste era un eroe magari anche ingiustamente perseguitato eccetera quindi ecco si inizia a radicare a radicare lì tanto è vero che 1828 compare di Washington Irving la vita di Cristoforo Colombo che viene immediatamente guardate che questo accade per rarissime opere visto che siamo in epoca citò Manzoni con i Promessi Sposi che ha lo stesso fenomeno ha una traduzione in lingua straniera immediata Irving ce l'ha in italiano a Genova nello stesso anno di edizione così come Manzoni lo avrà per la Germania grazie all'influenza di Goethe tra l'altro con Manzoni ha comune al fatto che Irving è considerato il primo scrittore americano cioè il primo scrittore che riassume in sé le istanze americane e quindi mano a mano si radica e tocca il massimo quando questi sono the knights of Columbus i cavalieri di Cristoforo Colombo quando si deve identificare un concetto di patria un concetto di patria per la comunità italo-americana che è in America e che si riunisce intorno a Cristoforo Colombo e lo so se riuscite a vederlo che usa l'iconografia di Colombo vedete il busto che è uno dei più conosciuti lo si usa come icona in diversi dei giornali che tecnicamente si chiamano etnici cioè di giornali che parlano la lingua della comunità di riferimento e che diventa proprio la figura intorno al quale si costruisce l'identità di nazione ve lo faccio vedere perché non è tanto casualmente ma proprio perché la figura di Colombo si prestava che l'identità di nazione è il punto da cui siamo partiti quando vi parlavo dello Spielberg di Pelagio Palagi e di Aies velocemente la musica ne parlerà io ve lo faccio vedere solo dal punto dei bozzetti e delle figure a Genova viene commissionato dalla municipalità il Cristoforo Colombo un'opera che viene fatto in una prima al Carlo Felice per i quali vengono disegnati dei bozzetti straordinari e poi spero con questo di avervi dato in tempi velocissimi questa idea fondamentale che la cultura le opere d'arte sono un valore e non a caso ho messo la banconota che magari alcuni di noi ancora ancora ricordano sono un valore ma non per loro stessi ma per quanto davvero ci possano permettere di comprendere il mondo quindi secondo me il ruolo di chi ha come dire l'incarico di mantenere la memoria è quello di utilizzare questa memoria per fornire dei valori di comprensione in queste epoche se non abbiamo la memoria abbiamo difficoltà a comprendere ciò che siamo non ciò che siamo stati vi ringrazio dell'attenzione grazie 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 Serena Bertolucci per la sua interessante esposizione allora ora passiamo a Colombo nella storia cioè abbiamo un video mi pare della Gabriella Iraldi perché non poteva essere presente oggi e poi abbiamo un problema della Simonetta Conti cosa è successo Qualco mi ha chiamato questa mattina la professoressa Conti dicendo che stava molto raffreddata e quindi non si sentiva in grado di intervenire ma poi recupereremo ovviamente il suo intervento volevo aggiungere una cosa sull'intervento di Serena Bertolucci che la ringraziamo molto di essersi resa disponibile anche se a mezzogiorno c'è la presentazione del programma di Palazzo Ducale ma lei ha tenuto fede diciamo al suo impegno e quindi gliene siamo doppiamente grati per il filmato che vedremo di Gabriella Iraldi bisogna ringraziare anche Alessio Bixio che è un tecnico del Comune di Genova che ha fatto questa ripresa grazie sì dispiace scusa per Simonetta Conti che è una geografa l'Università della Campagna Luigi Van Vitelli ma cercheremo di recuperare Gabriella Iraldi prego non è facile parlare di Cristoforo Colombo un personaggio discusso in tutti i tempi importantissimo però per la storia perché il gesto che compie è un gesto fondamentale perché allarga i confini del mondo questo gesto gli costa molto perché per lui significa naturalmente un successo dal punto di vista personale ma allo stesso tempo il gesto è talmente importante perché si scopre un nuovo mondo in realtà che lui stesso ne viene travolto e Colombo all'inizio che poi diventerà un mito successivamente all'inizio della sua storia viene quasi cancellato da questo gesto cioè del gesto si parla molto dell'uomo molto meno perché l'uomo non è un tanto non appartiene al paese per il quale lavora e compie questo famoso viaggio di scoperta e quindi è uno straniero nell'ambiente in cui lui opera e subito naturalmente la grandezza ma anche l'enormità della scoperta lo travolge quindi il personaggio non ha immediatamente un successo quando Colombo muore muore quasi in una situazione di disgrazia ma in realtà è un personaggio famoso ai suoi tempi e anche non povero tutto sommato perché il viaggio lo mette in una situazione di privilegio però allo stesso tempo viene superato dall'evento il fatto essenziale è che questo evento in realtà è quello che lo porta ad appartenere al mito perché il gesto dello scopritore nella storia di tutti i tempi è come il gesto di un creatore e quindi diventa un'immagine subito un'immagine abbastanza complessa che sta tra la storia e il mito naturalmente se ne vedono le luci e le ombre subito e questa questa doppia immagine dell'uomo si trascina nel tempo noi oggi abbiamo teorie diverse su questo personaggio che viene considerato o un assassino se vogliamo usare un termine molto franco così oppure un eroe un santo perché diciamo ha trasportato oltre oceano appunto lo stesso mondo europeo con tutte le sue luci o un uomo invece discutibile da molti punti di vista i documenti sono tanti lui stesso scrive molto quindi i modi per conoscere questo personaggio ci sono subito però viene cancellato viene anche cancellato in funzione della storia perché all'epoca immediatamente successiva comincia lo scontro tra cattolici e protestanti quindi che va insieme con le scoperte geografiche che cominciano allora e quindi la parte protestante per attaccare la Spagna chiaramente usa l'immagine negativa cioè noi abbiamo l'immagine dei conquistatori spagnoli gli altri sono conquistatori gli olandesi e così discorrendo i vari gli inglesi i francesi sono lo stesso conquistatori e colonizzatori però avviene fuori uno scontro molto forte quindi la sua figura continua a essere una figura discussa diciamo nel tempo salvo qualche raro caso noi abbiamo esempi di valorizzazione della figura però fino all'ottocento sostanzialmente quindi nel 7 e nell'ottocento noi non abbiamo la ripresa dell'immagine di Colombo e questo avviene devo dire per una ragione di fondo molto importante che è la rivoluzione americana la rivoluzione americana nel 1776 dà un colpo decisivo a questa perché la rivoluzione americana prima di quella francese che viene subito dopo è la liberazione è dalla colonialismo inglese di fatto gli americani vogliono la libertà vogliono la libertà e allora cercano gli eroi di questa della loro storia in poche parole cioè la scoperta è l'inizio della conoscenza delle Americhe lui non scopre il Nord America però i primi che fanno la rivoluzione diciamo nel mondo da questo punto di vista anticoloniale in qualche modo sono gli americani del Nord non del Sud quindi c'è una profonda diversità perché il mondo del Nord come del Nord America è il paese della libertà rispetto all'America del Sud che invece erede della colonizzazione ispano-portoghese degli spagnoli e dei portoghesi ha un sistema un sistema sociale economico e politico ancora sul vecchio sistema coloniale americano invece con questa liberazione diciamo la democrazia la libertà e tutte queste cose sono molto molto importanti e allora la figura di Colombo diventa l'uomo che ha scoperto che ha dato il via tutto sommato a questa anche se poi ci sono tutti i viaggiatori successivi però sostanzialmente allora noi troviamo che sulle porte del Campidoglio per esempio la sede del mondo del Nord America è tutta istoriata dalle storie di Colombo e all'interno cioè Colombo viene paradossalmente eroe diciamo del mondo latino in qualche modo diventa invece l'eroe di un mondo che non ha scoperto direttamente ma che si ritiene erede di un personaggio che ha fatto in qualche modo la storia e che ha scosso cambiato diciamo le regole del tempo questo principio si afferma nell'Ottocento soprattutto con alcuni personaggi per esempio Jacob Burgart un personaggio che ha studiato il Rinascimento Italiano che sostiene che il gesto dell'individuo cioè l'uomo che si fa la sua fortuna come si dice a quell'epoca è proprio tipico di Colombo Colombo è un personaggio capace nella sua storia di costruirsi e di costruire qualcosa da questo si passa siamo a metà dell'Ottocento più o meno si può passare al discorso del romanticismo e del risorgimento perché Colombo diventa una figura molto importante nell'età romantica sempre per la liberazione dai vincoli in qualche modo delle monarchie assolute della creazione delle nazionalità e delle nazioni e il risorgimento italiano per esempio ne fa un eroe Manzini ne parla moltissimo come lo fanno gli americani come ha fatto Washington così in Italia la figura di Colombo cresce di nuovo per la sua capacità forse di di aver trascinato di aver aperto la storia e di essere andati avanti quindi noi abbiamo un periodo rivoluzione francese ma soprattutto il risorgimento italiano e il romanticismo il risorgimento italiano che fanno il recupero che attuano il recupero di questa figura e quindi l'abbiamo sia nella costruzione americana del nord ma anche in quella del sud perché c'è un momento nel quale c'è la liberazione dal colonialismo spagnolo e portoghese quindi abbiamo in libertador adesso abbiamo Simon Bolivar che è quello che battezza il paese che porta il nome di Colombo la Colombia la Colombia porta il nome perché gliel'ha messo appunto gliel'ha messo e anche tutti gli emigranti che ci sono stati dopo Colombo e anche quelli dell'ottocento quelli che trovano nella figura di Colombo nel richiamo a Colombo una sorta di viatico per andare nel nuovo mondo cioè paradossalmente lui ha aperto anche la via dell'emigrazione ma non solo in senso negativo in senso positivo cioè l'apertura del mondo quindi liberazione rivoluzione cambiamento di realtà diciamo della realtà del mondo di quel tempo e poi naturalmente il discorso cambia nuovamente quindi noi abbiamo monumenti di Colombo dappertutto in tutta l'America del Nord le sue città che si richiamano anche Columbus in Ohio per fare un esempio paesi che portano il suo nome giornali che portano il suo nome e quindi nel periodo diciamo fine ottocento metà dell'ottocento fine ottocento la figura cresce naturalmente con il colonialismo nuovo che viene fuori nelle primi anni tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento è chiaro che viene recuperato nuovamente cioè chi sono gli scopritori vengono recuperati non intanto come colonizzatori ma come iniziatori di una nuova storia e quindi Colombo come Caboto come Verazzano in realtà sono solo gli italiani che hanno fatto la storia dell'apertura dell'apertura del mondo e quindi Colombo continua a crescere però naturalmente come si vede oggi benissimo nell'abbattimento delle statue c'è l'altro aspetto della storia di questa vicenda che viene fuori in maniera molto molto precisa nel periodo diciamo non tanto del primo novecento che appunto avendo come spinta al colonialismo è chiaro che può valorizzare queste cose ma invece in tempi successivi arriviamo al 1992 celebrazioni appunto della scoperta dell'America e scoppia già uno scontro tremendo tra gli indigenisti e diciamo i non indigenisti cioè quelli che hanno celebrato Colombo prima e che continuano in qualche modo a celebrarne l'azione diciamo senza celebrare il personaggio e gli altri che comunque invece sono contro quindi grandi discussioni prima ricerca assoluta di tutti i documenti di tutte le storie alla fine dell'ottocento noi abbiamo raccolto una serie enorme di documentazioni in funzione di questo personaggio un secolo dopo abbiamo la documentazione ma abbiamo lo scontro la nascita dello sconto il quale scontro si prolunga fino ai tempi attuali cioè noi ai tempi attuali abbiamo la distruzione addirittura l'abbattimento delle statue di Colombo iniziatore della colonizzazione viene letto da questo punto di vista e nello stesso tempo abbiamo invece la ricerca ancora lo studio del personaggio quindi un elemento discusso all'origine perché il gesto è stato troppo importante e discusso ancora oggi perché è un personaggio controverso che la conquista c'è stata come conseguenza quindi un personaggio che si può studiare da tanti punti di vista anche oggi che si deve esaminare in questa chiave qual era il tessuto che ha lasciato qual era il tessuto che ha trovato quali sono gli aiuti che ha avuto perché ci sono stati quali sono le controversie che ha avuto il personaggio che personaggio è questo è il punto fondamentale siccome lui scrive molto scrive molto bene e se ha molta documentazione si può studiare questo personaggio anche dal punto di vista come mi sembra interessante non solo dell'ambiente non solo dell'azione ma anche della sua personalità la personalità di Colombo è molto complessa è un uomo solo è un emigrante e quindi va tenuto conto di questo elemento e quindi bisogna tener conto di quanto oggi modernamente si può lasciando servendosi di ciò che è stato fatto in passato ma invece dandogli un nuovo taglio di quali vie possiamo seguire altrimenti come capita oggi se uno va sull'intelligenza artificiale che è l'ultima diciamo l'ultimo elemento importante trova che la figura di Colombo può essere letta in più modi bisogna appunto cercare di armonizzarli perché è vero che Colombo è stato un conquistatore a modo suo era una questione dei tempi non era una questione voluta in modo particolare ma faceva parte di una storia nello stesso tempo è stato un personaggio moderno da questo punto di vista cioè un personaggio che può essere studiato per la sua modo di essere io credo che oggi ci sia spazio per recuperarlo sia dal punto di vista del mito sia dal punto di vista della realtà fattuale senza giudizi perché nella storia i giudizi non si possono dare la professoressa Iraldi fa parte del comitato scientifico del centro studi colombiano si è resa disponibile a registrare questo video perché oggi non poteva essere presente perché ve lo voglio dire per simpatia è il suo compleanno e lo sta festeggiando a Parigi quindi grazie a Gabriella Irani bene grazie di questa informazione quindi stamani la sessione per diversi motivi la possiamo chiudere in anticipo l'ultimo relatore di questa mattina è Francesco De Nicola che è critico letterario come sapete presidente della società d'Antalighieri di Genova con un titolo carinissimo Leopardi e il folle volo di Colombo che ci libera dalla noia ci fa cara alla vita prego De Nicola ah scusa aspetta aspetta te lo do io bene grazie buongiorno e abbiamo ascoltato prima quanto l'immagine di Colombo abbia stimolato numerosi esponenti delle arti figurative così come nel pomeriggio ascolteremo come Colombo sia presente nel cinema nel teatro nella musica e quindi è inevitabile che un personaggio come Colombo che ha cambiato la storia dell'umanità abbia anche sollecitato degli scrittori a occuparsi di lui nella letteratura italiana sono migliaia le pagine dedicate a Colombo la sua impresa e altre cercheremo in ossequio al programma che è stato illustrato cercheremo di trovarle grazie anche alla collaborazione come dicevo della Dante Lighieri della quale qui sono il rappresentante nei suoi vari comitati che sono pensate 100 in Italia e 400 nel mondo quindi se riusciremo ad avere una collaborazione sicuramente il programma si potrà arricchire bene vi accennavo prima allo stimolo dato da Colombo agli scrittori italiani ovviamente per ragione di tempo forse posso anche un po' dilatarmi ma state tranquilli che non esagero sono stati molti importanti e io mi soffermerò su quanto su Colombo ha scritto uno dei maggiori autori italiani cioè Giacomo Leopardi Giacomo Leopardi in realtà prima di Leopardi anche Torquato Tasso nella Gerusalemme liberata aveva celebrato cito un uomo della Liguria che avrà ardimento per abbattere i paventati d'Ercole pilastri cioè le colonne d'Ercole che segnavano il limite del facet nefas nel medioevo bene è il 1824 quando il 26enne Giacomo Leopardi che aveva già scritto opere importanti basti pensare all'infinito avvia la composizione di 20 operette morali sono testi in prosa scritti prevalentemente in forma dialogica questo era un genere letterario che risaliva addirittura all'antica Grecia di Socrate e di Platone e che poi venne recuperato nell'umanesimo uno dei primi autori che interpreta questo genere era un genovese di nascita era figlio di una Fieschi ed era Leon Battista Alberti che forse non sarebbe male se Genova ogni tanto si ricordasse di questo personaggio e aveva scritto appunto l'Intercenales che era proprio un dialogo a cena tra alcuni personaggi poi naturalmente ricordiamo Galilei i dialoghi sui massimi sistemi bene naturalmente il dialogo cosa fa contrappone due pensieri differenti e questo come vedremo sarà il caso dell'operetta morale che Leopardi dedica il titolo è dialogo tra di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez sarà poi pubblicato questo dialogo nel iniziato nel 24 e pubblicato nel 27 ora perché ci possiamo domandare Leopardi si occupa di Colombo era uscita qualche anno prima nel 22 la traduzione italiana della storia dell'America dello studioso scozzese William Robertson e Leopardi lo conosceva tant'è vero che nel suo manoscritto ci sono molte citazioni proprio del Robertson quindi c'è stato uno stimolo a affrontare questo personaggio nato da un libro di storia sappiamo che Leopardi aveva grazie al padre una biblioteca sterminata e quindi ecco l'origine di questo dialogo lo scenario del dialogo è tra il navigatore genovese e Gutierrez che era un uomo di corte del re Ferdinando il cattolico lo scenario posto a bordo della Santa Maria in una tranquilla notte di navigazione sull'oceano quando però il viaggio sta diventando abbastanza lungo e soprattutto del quale non si intravede la conclusione non è una situazione tranquillizzante e viene subito esposta dal rapido scambio di battute tra i due dialoganti perché Colombo serenamente esclama bella notte amico e Gutierrez replica bella in verità e credo che a vederla da terra sarebbe più bella e questa è una risposta gentile che però lascia intendere un pacato disappunto per questo viaggio che sembra ormai interminabile ecco sottolineo che questo senso di cordialità di amicizia sarà diffuso per tutto il dialogo pur con posizioni molto diverse ovviamente Colombo capisce da questo accenno che vi ho citato che Pietro è abbastanza stanco di questa navigazione e allora per spiegarla lo spagnolo avvia un breve monologo che poi è la premessa per entrare nel vivo della conversazione precisando subito però senza polemizzare sì questa navigazione mi riesce più lunga di quanto supponesse e gli crea un poco di noia questa parola poi tornerà molto spesso sulla bocca proprio di Colombo detto questo Gutierrez comunque assicura il navigatore che asseconderà sempre le sue decisioni non se lamenterà e aggiunge come fanno gli altri perché sappiamo che le ciurme cominciavano ad essere abbastanza di malumore e dirà a questo punto che in ogni caso con tutta sincerità ti domando se hai ancora le certezze che avevi all'inizio dell'impresa e dice non so se avrai ancora a trovare paese in questa parte del mondo o se dopo tanto tempo cominci a dubitare naturalmente a questa domanda legittima Colombo risponde cito schiettamente come si fa con persona amica e segreta segreta nel senso di discreta con un monologo che si apre con l'ammissione delle sue certezze iniziali che si sono indebolite confesso che sono entrato un poco in forse anche perché alcuni indizi favorevoli si sono rivelati progressivamente poco significativi al punto da non escludere che possa risultare cito vana la congettura principale cioè della vera trovare terra di là dall'oceano Lopardi dunque non presenta un Colombo categorico fortemente convinto della sua legittimità di questo progetto bensì disponibile a riconoscere il possibile fallimento sebbene e questo lo precisa Colombo il progetto sia nato da argomenti probabilissimi non solo a giudizio mio ma di molti geografi astronomi navigatori eccellenti Leopardi sottolinea un'altra apprezzabile dote della razionale saggezza di Colombo che cito rispetto alla congettura principale a trovare terra di là dell'oceano osserva che però senza certezze assolute nessuna ipotesi si dovrebbe proporre e l'uomo allora dovrebbe limitarsi ad accettare solo cito le cose che si vengono presentemente si tocchino come dire che occorre riconoscere i limiti del sapere davanti i quali però è disdicevole arrendersi ecco emerge allora la convinzione di Colombo di non doversi accettare quanto è conosciuto e proclamato ma invece di doversi dedicare alla ricerca del nuovo che richiede la diretta sperimentazione siamo cioè nella filosofia scientifica galileiana del provare e riprovare cioè dello sperimentare il provare per accrescere e aumentare le conoscenze e riprovare cioè cancellare le errate cognizioni spesso errate frutto dell'aristotelico dogmatismo dell'ipsedixit che nel medioevo tarpoleali del nuovo e del vero ma questi due gerundi provando e riprovando li leggiamo anche al verso tre del terzo canto del paradiso dantesco del cui significato abbiamo una prova evidente del provare e riprovare da uno dei più noti canti della commedia cioè il ventisesimo dell'inferno dove Ulisse usa le parole esperto ed esperienza due voci derivate dal verbo sperimentale che è un verbo scientifico per eccellenza che indica appunto l'esigenza di provare in prima persona anche a rischio di fallire la propria ricerca e non a caso Leopardi a proposito dell'ipotesi che è all'origine del suo viaggio del dastino incerto riprendendo proprio il vocabolo dantesco fa fermare a Colombo molte conclusioni cavate da ottimi discorsi non reggono all'esperienza e la ricerca del nuovo sconosciuto originato dalla volontà di realizzare il proprio progetto all'origine del viaggio di Colombo spesso richiede un coraggio e un'audacia non comuni ma sono necessari per compiere un'impresa inconsueta e difficile necessari per compiere appunto un folle volo come quello mitologico di Ulisse e quello reale di Colombo dove folle non è un aggettivo accusatorio di condanna bensì di apprezzamento per un gesto che solo un'anima generosa e indifferente ai calcoli del rischio può compiere chi crea dal nulla deve avere la follia il poeta Dino Campana dice il poeta si diverte pazzamente e altrimenti si è degli epigoni altrimenti non si inventa nulla ecco quindi questa follia che è stata anche citata prima opportunamente è alla base della scelta di Colombo avuta quindi dal navigatore questa risposta abbastanza priva di certezze peraltro Gutierrez se ne trae una conclusione che in qualche modo però è una velata accusa tu in sostanza hai posto la tua vita e quella dei tuoi compagni in sul fondamento di una semplice opinione speculativa e proprio questa preoccupata ma pur sempre rispettosa come vedete osservazione apre la strada al nucleo delle motivazioni del Colombo Leopardiano a tentare l'impresa certo egli ammette questo viaggio è una sfida pericolosa nata soprattutto dalla volontà di superare la noia che dunque diversamente dall'opinione diffusa che la considera un momento vuoto nella vita degli uomini invece ha una sua funzione di una scossa di una molla che lo ha spinto ad agire a consultarsi prima con esperti come abbiamo appena letto poi a predisporre un progetto da sottoporre alla regina Isabella e credo che nulla racconti meglio questo passaggio della vita di Colombo del maestoso monumento in bronzo di Mariano Begliure che a Granada si trova all'inizio della Gran Via di Colombo per avere appunto da Isabella necessario sostegno per partire all'avventura con i suoi marinai certo questi stanno rischiando ma altrimenti osserva Colombo che cosa farebbero rassicuro e privi di un'esperienza che dia un senso alla loro vita e qui Leopardi ci sorprende la sua immagine è più diffusa corretta forse un po' dal film Il giovane favoloso uscito nel 14 e quella di un giovane malaticcio che trascorre le sue giornate in biblioteca a leggere a scrivere sedentario ma qui invece Leopardi celebra la bellezza dell'avventura sia pure dall'esito incerto che dunque sola significa vivere pienamente e non lasciarsi sopravvivere nel nulla e aggiunge se al presente tu ed io e tutti i nostri compagni non fossimo in su queste navi in mezzo di questo mare in questa notate la ripetitività dell'aggettivo questa per indicare una situazione concreta in questa solitudine ignota in stato incerto e rischioso quanto si voglia allora in quale altra condizione di vita ci troveremo a essere in che saremo occupati in che modo passeremo questi giorni forse più lietamente o non saremo anzi in qualche maggior travaglio o sollecitudine ovvero pieni di noia e allora piuttosto che vivere in modo tedioso e misero meglio vivere nella speranza che questo viaggio corrisponde all'attesi di chi l'ho organizzato senza tener conto del successo che potrebbe avere se avesse buon esito perché è già la sola navigazione dice Colombo a me pare che ci sia profittevolissima in quanto che per un tempo essa ci tiene liberi dalla noia ci fa cara alla vita ci fa pregevoli molte cose che altrimenti non avremmo in considerazione e per rafforzare questa convenzione Lopardi introduce un altro tema quello dell'amore per la vita da parte di chi sembra considerarla poco perché è attivo in ambiti pericolosi credesi comunemente che gli uomini di mare e di guerra essendo a ogni poco in pericolo di morire facciano meno stima della vita propria che non fanno gli altri della loro io per lo stesso rispetto giudico che la vita si abbia da molto poche persone in tanto amore e pregio come da navigatori e soldati questi beni che avendoli non si curano anzi queste cose che non hanno pur nome di beni paiono invece carissime e preziose e naviganti solo per esserne privi e solo i naviganti sottolinea il colombo leopardiano avvertono la forte necessità di avere un poco di terra che ti sostenga e questa è proprio la meta del viaggio non abbiamo maggior desiderio che la vista di un cantuccio di terra e quando questa avverrà ci parrà per più giorni di essere beati ecco la cieca fiducia di colombo nella necessità di agire coraggiosamente quale unica via per la felicità per le abetitudini come abbiamo presentito allora indice Gutierrez a condividere la sua speranza per il buon esito del viaggio accantonando il pericolo del suo possibile fallimento sicché il navigatore genovese confortato dalla buona accoglienza da parte del suo interlocutore a seguito dell'ottimismo anche questa parola usata per Leopardi ci può sembrare un po' assurda Leopardi ha l'etichetta spesso si ama etichettare i personaggi i poeti gli scrittori etichettato come il poeta del pessimismo cosmico ma se avete sentito queste parole sono parole di ottimismo Leopardi è convinto che Colombo comunque viva ciò che lo rende beato questo è ottimismo e allora dicevo Colombo ha comunque delle intuizioni che vengono dal mare dalle nuvole dall'aria da una canna immersa nell'acqua dagli stormi degli uccelli e allora per molto che voglia essere diffidente mi tengono pure in un'aspettativa grande è buona e con queste parole rassicuranti Gutierrez accoglie con tranquillità le argomentazioni di Colombo come a dire che l'accettazione delle sue speranze unite all'accorato suo elogio della necessità di vivere anche nei pericoli pur di sconfiggere la noia gli hanno fatto superare l'iniziale dubbio timoroso e il dialogo quindi finisce con questa figura di un Colombo responsabile così è e tuttavia portato alla speranza non di più di concludere il suo progetto bene ho detto che le imprese di Colombo hanno stimolato diversi scrittori ma è anche interessante dire brevemente che non tutti le hanno trattate affrontate nello stesso modo e allora dopo questo dialogo che penso sia un po' sorprendente per chi non lo conosceva devo dire che in molte antologie questo dialogo non è riportato e forse non sarebbe male proprio nel quadro del discorso che stavamo facendo che gli studenti lo leggessero anche per avere un'idea di questo Colombo che non è un po' quello dal pugno duro no? ma anche un'idea di Leopardi che non è quella comune eh direi che le parole che vi ho citato lo dichiarano ampiamente ebbene però ci sono modi diversi come dicevo di affrontare Colombo e le sue imprese e ci sono anche diversi linguaggi io mi soffermo molto rapidamente su due racconti del viaggio di Colombo scritti in dialetto Cesare Pascarella poeta romano compose un poema di 50 sonetti in romanesco usciti nel 1894 col titolo La scoperta dell'America qui la narrazione del viaggio di Colombo è affidata a un uomo del popolo che in un'osteria racconta in dialetto agli amici ciò che ne ha letto in un libro di storia abbondando però in volute inesattezze che portano verso il comico come nel caso della richiesta del navigatore alla regina Elisabella nel sonetto dodicesimo fece lei lei che fa? tre navicelli e ognuno buta caso quanto grande fece lui sul genere di quelli che portano il Marsala a Ripagrande a Ripagrande era un porto del Tevere quindi non chiede le tre caravelle ma tre imbarcazioncine come quelle che portano il Marsala sul Tevere a Roma quindi vedete questa dimensione popolare ma anche molto sbrigativa molto comica nella sostanza Colombo quindi è presentato come un uomo saggio e tenace che davanti alla rimostranza delle ciurme per un viaggio ormai troppo lungo riesce a domarla proponendo una soluzione abil e astuta un rinvio è vero si si è tripola da un pezzo per cui per risolvere questa questione non c'è altro che fatta convenzione che a me mi pare sia l'unico mezzo che noi parte due giorni e andiamo avanti e si proprio per Cristo non c'è niente e si retrocede indietro tutti quanti ve capacita quelli c'è Benzorno beh dice sono due giorni solamente beh io fecero andiamo e seguitorno e poi naturalmente la stessa soluzione sarà ripetuta nei giorni successivi ecco vedete che tutto è portato a un livello popolare dialettale sul comico e però anche questa è un'interpretazione della vita di Colombo rimaniamo in dialetto e non andiamo lontani perché arriviamo a Genova e qui nel 1946 apparve di Edoardo Firpo che aveva già pubblicato eh o Fiorentugotto e poi pubblicherà Ciamo Martín Pesco specializzato nella lirica breve se ricordate apparve invece un poemetto anche qui avea scoverta dell'America e ora questa era al di fuori ripeto delle di qualunque sua produzione precedente però era stato stimolato da scrivere qualcosa di diverso sappiamo che poi Firpo deciderà cioè scriverà ma poi non lo farà di passare alla lingua italiana e quindi è un direi che uno dei maggiori poeti in Genovese bene il 13 dicembre del 1946 Firpo lesse due canti di questo sonetto Palazzo Ducale e lo stesso giorno sul suo diario annotò la generi dal Genesi di quell'opera in forma di poema scrivendo i protagonisti da vea scoverta dell'America tranne il più famoso che conterebbe cinque secoli sono ancora in buona parte vivi perché le ciurme delle caravelle di Colombo sono costituite dalla numerosa combriccola che si radunava la spicciolata ogni giorno durante la guerra in piazza Verdi sulle panchine attorno alle vasche per portare o per raccogliere notizie clandestine e fu proprio in uno di quegli angosciosi anni quando l'incubo dell'ignoto incombeva su tutti che una frase col tavolo dalla bocca di uno dei nostri mi stimolò a prendere qualche appunto e la frase era stata questa semmo proprio come i scenavi di Colombo che andavano all'orbetto da qui nasce questa via scoverta così denominata per avere io tenuto conto qualche volta del giornale di bordo di Colombo ma il poemetto è un intruglio come lo stesso l'ha definito umoristico satirico e qualche volta lirico dove gioca molto più la fantasia che la storia dunque Colombo e la sua impresa sono propositi a Firpo anche in chiave ironica come pretesto per collegare la grande storia con l'attualità in ogni caso Firpo come già il suo predecessore Aldo Acquarone anche gli autori nel 32 di un poemetto in genovese sullo stesso tema palese imitazione di Pascarella la volontà di portare comunque la figura di Colombo attraverso il dialetto anche negli strati meno colti della popolazione quella che appunto si esprimeva in dialetto che ancora al censimento del 51 rappresentava i due terzi degli italiani ma questo impegno come pure la breve pagina all'uovo di Colombo inclusa nelle vite degli uomini illustri del grande umorista Achille Campanile ha dato non meno dello straordinario dialogo lopardiano un importante contributo alla diffusione dell'immagine del navigatore genovese che ha aperto una nuova pagina nella storia dell'umanità grazie 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 molto interessante Francesco De Nicola non avevo dubbi bene la mattinata è conclusa ci vediamo alle 14.30 prosegue la nostra discussione Colombo nel teatro nel cinema nella musica oggi pomeriggio e tante altre belle cose sì scusate volevo dire una cosa che lanciando diciamo l'invito per questa conferenza abbiamo stimolato invitato diciamo a prendere parte a questo processo poi di approfondimento di riflessione sulla valorizzazione della figura di Colombo e la sua epoca una serie di soggetti che non erano già coinvolti come ad esempio il professor De Nicola ma vorrei citare chi ha risposto a questo invito a collaborare e che è qui presente ad esempio la dottoressa Maria Camilla De Palma che è la direttrice del Museo delle Culture del Mondo Castello d'Albertis la professoressa Fulvia De Feo dell'Istituto Montale grazie di essere qui il curatore del Galat Museo del Mare Gianni Carosio che pretendo sia associato a questo lavoro di riflessione e poi visto che abbiamo qui il presidente del Museo Biblioteca dell'Attore il professore Eugenio Palestrini l'invito è esteso anche al Museo Biblioteca dell'Attore grazie Gloria Piaggio è la direttrice del settore Cultura del Comune di Genova con la quale collaboriamo e quindi stamani non poteva essere presente oggi sì la ringrazio e le chiedo di portare il saluto buon pomeriggio a tutti mi scuso di non essere stata presente ma ahimè come loro sanno una concomitanza di eventi che si sono sommati oggi fra Book Pride e quest'anno siamo capitale del libro e la presentazione del programma di Palazzo Ducale che appunto quest'anno è particolarmente impegnativa proprio la concomitanza di eventi ci siamo ritrovati e Genova Gins che appena è stata inaugurata ieri sera ci siamo ritrovati davvero in una situazione in cui credo questa sia un po' anche la spiegazione di alcune sedie vuote perché Colombo è comunque un tema che appassiona i genovesi siamo qua nel posto giusto abbiamo Cristoforo Colombo e seppur vero adesso dico verrò bastonata dagli organizzatori però questa sala a volte che io con perfide dico una sala dove abbiamo uno che abbiamo mandato via e uno che abbiamo messo in galera quindi noi ci presentiamo con questa immagine però nella realtà dare i Natali a qualcuno scusa allora e due che abbiamo condannati a morte perfetto quindi siamo veramente grazie Roberto dell'assist e cosino quindi in questo luogo però secondo me seppure sia stato fatto forse con una demagogia superficiale nella realtà è una lezione perché significa che l'eredità che noi lasciamo ai posteri è un'eredità che in fondo è indipendente dalle vicissitudini singole della persona ma quello che queste quattro persone ci hanno lasciato è qualcosa di così grande di così importante che in realtà pezzetti della loro storia magari anche tristi pezzetti della loro storia umana sono relativamente irrilevanti rispetto alla grandezza dell'eredità allora Cristoforo Colombo per noi sempre nato a Genova sebbene gli spagnoli continuino a contestarci queste eredità ormai non più ma io che sono uruguayana quindi sono nata e cresciuta con la formazione che Genova era la città da dove veniva Cristobal Colom come lo chiamiamo noi quindi era sicuramente così è una persona importante ma non soltanto per il viaggio ma per la grande visione per la grande tenacia e determinazione che sono elementi che a volte più ancora dell'intelligenza delle capacità portano a dei risultati quindi il fatto che Colombo continua a essere celebrato che chi ha dato in Italia Colombo si pregi di farlo e lo faccia io mi auguro con sempre maggiore impegno e capacità e risultati sostenuti da Carlotta Gualco e Roberto Speciale e il loro staff che fanno un gigantesco ed enorme lavoro di sostenere mantenere viva l'importanza di questo che vada avanti che i ragazzi si accorgano dell'importanza di avere una grande visione di poter essere lungimiranti e tenaci ed arrivare a dei risultati come ha fatto Cristoforo Colombo sebbene lui non è che se ne sia accorto del tutto ma la simbologia l'importanza di questo ci spinge a voler sempre più conoscere la figura capire qual era la dimensione umana di una persona che ci ha lasciato un'eredità veramente importante e anche in momenti dove abbiamo situazioni in cui buttano giù stato e contestano e dove ovviamente le cose vanno riviste e rilette tante volte alla luce di quelle che sono nuove scoperte nuove percezioni nuove modi di approcciare però negare l'importanza di questa grande persona è veramente un segno di ottusità e oscurantismo quindi io ringrazio auguro ottimo lavoro e ringrazio tutti i presenti per l'attenzione e l'ascolto verso un evento così importante è il sindaco che non ha potuto per tutta questa serie di ragioni essere presente come sanno bene Roberto e Carlotta ha nel cuore in modo molto molto forte anche perché ha vissuto dall'altra parte dell'Atlantico a lungo quindi per lui è una cosa molto importante portare avanti tutti i lavori che stanno facendo con Fondazione Casa America e Casa Colombo quindi grazie a tutti e buon pomeriggio grazie Gloria allora oggi c'è un programma intenso Colombo nel teatro nel cinema nella musica le immagini di Colombo negli Stati Uniti Colombo nella memoria e poi concluderà i nostri lavori cercando di non so non tanto di fare una sintesi quanto di pensare come proseguire il nostro lavoro Carlotta Gualco dunque come sapete oggi facciamo Colombo nel teatro nel cinema nella musica negli Stati Uniti nella memoria e poi Carlotta Gualco concluderà e ho già spiegato stamani e non lo ripeto perché abbiamo fatto questo convegno e con questo taglio con questa idea di fondo e perché proseguiremo il lavoro in questa direzione allora do la parola per primo a Gianni Poli che è un critico teatrale e un drammaturgo che ci parlerà di Colombo nel teatro e ci parlerà in particolare credo di una cosa molto interessante di Clodel un drammaturgo che presenta a Nervi una prima su Colombo nel 1951 prego e così però ti cade perché andava bene prima si dovrebbe poter si dovrebbe poter manovrare penso buongiorno a tutti l'argomento del titolo dovrebbe collegare l'indiscussa centralità genovese della figura di Colombo e l'interesse internazionale tributato lì ai rapporti culturali fra Italia e Francia che in campo artistico e teatrale sono sempre stati assidui e produttivi la portata particolare benché minima della scoperta di cui parlerò forse avrà contribuito e contribuirà ad ampliare e intensificare tali scambi ancora auspicabili è una storia una piccola storia di ritardi d'attenzione alla cronologia e al valore dei rapporti tra i fatti accertati quella che mi è capitato di vivere quasi vent'anni fa il desiderio di recuperare quei ritardi e di ristabilire la cronologia di alcuni eventi della storia del teatro del novecento mi ha indotto una ricerca che ha portato alla ricostruzione di un episodio significativo la creazione mondiale del libro di Cristoforo Colombo di Paul Clodel avvenne a Genova Nervi nel 1951 la notizia acquista al suo rilievo se la si confronta con la storiografia corrente e accreditata per la quale la creazione sarebbe quella avvenuta a Bordeaux nel 1953 con la regia di Jean-Louis Barrault quindi lo scarto fra le due diverse datazioni è stata la molla della mia curiosità e di un'indagine che ha ristabilito la verità storica e la qualità e il significato della rappresentazione genovese fino ad allora non apprezzabile finché alcune pubblicazioni e la giornata di studio del marzo 2009 li hanno resi riconoscebili i segnali che mi hanno allora indirizzato li devo sostanzialmente al libro di Dario G. Martini Cristoforo Colombo L'America e il teatro pubblicato nel 1988 e i documenti provanti esostivi per completezza e coerenza li ho trovati nel fondo Guido Salvini conservato presso il museo biblioteca dell'attore di Genova la cui importanza già risultava dalla mostra i set di Guido Salvini curata dal museo nel 1995 il racconto può definirsi attraverso il vaglio e il coordinamento di informazioni preesistenti paradossalmente disponibili ma ignorate fino all'evidenza scaturita da una deduzione una semplice trovata quasi fosse l'uovo di Colombo del caso come quando il mio interesse si è concretato dagli anni 1990 stavo elaborando una traccia della regia teatrale in Francia nel secondo novecento prevedevo lo studio dell'opera di alcuni maestri eminenti nella vicenda europea Jean Villard Jean-Louis Barot Antoine Vitesse Patrice consideravo l'analogo fenomeno in Italia almeno nelle estetiche e nei procedimenti rappresentativi verso il 2006 sarà durante lo studio degli spettacoli di Jean-Louis Barot mi accorsi dello scarto cronologico fra la sua prima del libro di Cristoforo Colombo in francese definita creazione e la rappresentazione italiana accertata del 1951 mi parve quindi dispensabile comunicare subito la scoperta e riuscì allora inserire d'urgenza la notizia nel primo volume di Scena francese nel secondo novecento pubblicato a Genova nel 2007 ma ora interessiamoci meglio a capire come vedeva Claudelli il suo Colombo e come Salvini intendesse il Colombo del poeta e lo rappresentasse a nervi Claudelli aveva ricevuto da Max Reynard la commissione di un dramma musicale che egli scrisse velocemente ma che in tale versione non fu mai realizzato per la rinuncia immotivata del regista austiaco un progetto musicale riuscì invece nell'opera composta da Darius Milot con un libretto di Claudelli tale quale la sua pièce è fruquerata a Berlino nel 1930 con la regia di Franz Oert il musicista fu contento del successo mentre il poeta deluso perché il suo dramma passava in secondo piano scalpitava nell'attesa della messa in scena egli riteneva infatti il suo un modello della fusione inedita fra palorodrammatica e musica secondo la concezione non comunque wagneriana di musica allo stato nascente soffermiamoci adesso sul testo teatrale scritto appena dopo aver finito sull'Ie des Sautets nel 1927 e pubblicato nel 1935 e affidato all'interpretazione dei Salvini sono vaghe le motivazioni della scelta del metteron sen allora direttore della compagnia del teatro nazionale e del traduttore Adriano Grande poeta cristiano della linea lingustica ed Ettore Lanzarotto direttore del civico istituto colombiano dichiarò come ne fosse irresponsabile per esclusione si è arrivati a Claudel innegabile il contenuto di poesia del dramma la sua spettacolarità di sicuro effetto all'aperto frattanto l'autore restava fedele all'originalità drammatica della figura centrale secondo la sua prima intuizione come confessava all'intervistatore il personaggio mi ossessionava da tempo eroe di un'idea che ho sempre nutrito l'idea dell'assemblamento della terra della riunificazione delle differenti parti dell'umanità un vero campione si potrebbe dire un santo intanto una prova materiale data a Parigi nel 1947 ancora aveva deluso il poeta l'opera insomma non aveva trovato il suo compimento Salvini che realizzava l'aspirazione dell'autore non poteva averlo testimone è riconoscente della verifica scenica tanto attesa la situazione unica e ripetuta saverò con la creazione francese che finalmente Clodel 85 anni pote gustarsi il colombo ideale e concreto di Clodel emerge quale protagonista epico sdoppiato in due presenze dello stesso personaggio modello di un'umanità cristiana raccordo fra la terra e il cielo anche se molti difetti e compromessi lo reimmergono nella storicità due ruoli perduatori appaiono dall'inizio il colombo primo interpretato da Roldano Lupi giovane vivo e agente in scena e il colombo secondo di Arnoldo Foix presente al proscenio ed eternizzato nella storia altri personaggi lo storico il cui originale era chiamato Explicateur era Carlo D'Angelo che legge il libro l'oppositore era Vittorio Sanipoli il difensore era Adolfo Geri Isabella di Spagna Evi Maltagliati Isabella Fanciulla Edda Albertini il cuoco Ernesto Calindri messaggero di San Giacomo Giancarlo Sbraggia delegato della Ciurma Gabriele Ferzetti soprattutto il coro che da voce alla posterità ha una funzione primaria costante in rapporti mutevoli di interferenza con i solisti e con gli avvocati di un processo intentato alle idee e ai comportamenti del navigatore con frequenti richiami biblici inseriti nel simbolismo spesso ricercato o esibito il copione offre minuziose didascalie e la richiesta di impiegare i filmati proprio quando la struttura del racconto si complica così prima dell'avvistamento della terra nuova avviene la rivolta e l'ammottinamento in una lunga scena fra Colombo I e il delegato della Ciurma ne nasce un patto promesso sancito dalla comparsa di una colomba quella che Isabella stessa aveva liberata ponendole un anellino alla zampetta e dall'affermazione di Colombo in tre giorni toccheremo terra e il miracolo avveniva la scena della tempesta è collocata dopo l'annuncio della scoperta e la sua diffusione nel mondo intero è un brontolio ma musicale ad annunciare l'uragano vediamo Cristofano esautorato che incatenato all'albero maestro è obbligato a reggerlo per garantire la tenuta dell'imbarcazione tre assalti di forza sovrumana si abbattono sulla caravella ai quali il nocchiero eroico nonché evangelico risponde con versetti dal Vangelo di Giovanni in principio era il verbo poi in presenza del cuoco che lo provoca Colombo fa l'esame di coscienza e giunge a confessare da aver peccato di schiavismo altra occasione quando gli chiedono quale nome abbia assunto il nuovo mondo e sente che è in onore di Amerigo Vespucci Colombo cita il salmo dal profondo innalzato il mio grido a te o signore poi Isabella via messaggero chiama l'amico di sempre a sublimarsi nell'ascesi come ha fatto lei morendo Isabella mediatrice di salvezza ecco il dialogo fra i due Colombo quando quello storico raggiunge quello ormai vecchio e morente e quando l'albergatore di Valla Dolide esige che gli sia saldato un debito e gli toglie anche la mula ecco l'intercessione di Isabella che si riprende la mula e sta via con Cristoforo verso il paradiso ancora qualche indizio testuale attenti al linguaggio drammaturgico delle figure immaginarie e delle loro funzioni spesso in contrasto con i concetti più apparentemente ideologici se non religiosi e teologici una scrittura decisamente antirealista a teatro non si parla vero si parla inventato e in versi un linguaggio diremmo oggi di forte latenza teatrale energica corporea e quindi cattivante l'impegno e la fantasia di attori e registi che davvero nel mezzo secolo scorso almeno in Francia hanno fornito prova di modernità anche provocatoria di quei testi e di quelle visioni in un tempo precedente giudicati ingenui magari astrusi o confessionali verso lo spettacolo è sempre opportuno non chiedere al mettero in seno lo scopo e l'intenzione del suo spettacolo ti inviterà ad assistere alla rappresentazione a noi restano i documenti non avendo assistito alle serate di Sestri e vale concentrarsi sull'estetica di Salvini come si era espresso nella carriera precedente una concezione che si era sviluppata a contatto con i maestri del primo novecento tedeschi Reinhard francesi Coppò in prove di teatro di masse promosse dall'ideologia fascista fino alla nave di Danunzio modello di allestimento all'aperto in un'insenatura veneziana nel 1938 infine alla ripartenza del dopoguerra quando si trovò a confrontarsi con la linea italiana della regia emergente allora in fautori quali D'Amico Streller Visconti e persino Squarzina come nota Livia Cavalieri utili i suoi impegni coevi come l'allestimento dei persiani dato a Siracusa nel 1950 uno sguardo al copione ci offre preziosi indizi sul metodo dell'artista che studiava la peculiarità della scrittura di Crodel non soltanto in traduzione ma intervenendo sull'originale l'evento di Nervi del resto non dista poi tanto dal ventennio periodo nel quale gli spazi all'aperte fornivano bei luoghi funzionali a rappresentazioni estive nonché ad adunate ora però l'impegno è tutt'altro che celebrativo o apologetico e rivela persino una nuova autenticità in quei luoghi la creatività allora si esprime sfruttando la conformazione naturalmente scenografica arborea e lo sfondo marino per il Cristoforo Colombo non c'è scenografia invadente concepita da Giulio Coltellacci ma integrazione delle strutture praticabili con il prato e con la vegetazione dei parchi così da rendere non incongrua ma poetica la sagoma della calaverla che al momento spiega la vela grazie alla fantasia dell'autore e a quella richiesta agli spettatori così la poesia e la poetica di Cradel trovano corrispettivo anche visivo in un ambiente che accoglierà qualche anno dopo i balletti convocati dalla passione lungimirante di Mario Porcile nello spazio sono inseriti alcuni modelli di edifici come quello centrale che diventa caravella o avrà una pedana sollevabile per rappresentare il cielo che accoglie Isabella e il suo eroe li collegano praticabili e scale destinati a sostenere evoluzioni coreutiche grosso modo si distinguono un lato genovese e un lato spagnolo nel dispositivo largo una sessantina di metri l'adattamento del testo mostra tagli ampi e relativi raccordi a un numero di scene aumentato che costituisce tablò autonomi espressionisti 50 sono i nuovi episodi contro i 27 originali il tempo di esecuzione è rigoroso cronometrato nella prima parte in 50 minuti per recitazione musica e coreografie il lavoro risalta dalla notazione usata dall'artista con segni colorati che sarebbe bellissimo poter esaminare sull'originale depositato presso gli archivi del museo dell'attore le modifiche o gli inserti sono molto ridotti una canzone si aggiunge a sostenere il pathos malinconico all'evocazione del porto di Genova fra le domande a cui non ho saputo rispondere ce ne sono molte ce ne sarebbero altre è il perché Salvini non abbia usato il cinema ingrediente richiesto dall'autore ma di fatto mai sfruttato efficacemente lo stesso Barrault ne tentò un'approssimazione artigianale da teatro di figura l'esigenza nasceva dal concetto di teatro totale oppure opera totale d'arte che l'incontro con Barrault aveva raffolzato anche l'oggetto libro ecco perché il titolo lo contiene faceva parte di un'estetica vagheggiata in origine da Colodelle quella degli attore permanente o l'objet cataliseur in cui rientrano anche la vela la colomba l'altare e la scarpetta di raso in quanto cineasta Salvini avrebbe potuto creare gli stessi filmati ma forse lo dissuase il senso di ridondanza che quello strumento avrebbe comportato per un testo già così stratificato composito per generi e obiettivi estetici in effetti Clodelle si dedicò anche a un soggetto cinematografico intitolato le rassembleur della terra Christophe Colombo e a un radiodramma di cui esistono tuttora inediti i progetti la funzione della musica nell'edizione genovese invece è ritenuta molto importante peccato che non si sia riusciti a recuperare la partitura di Fiorenzo Carpi è peccato che la soluzione adottata non sia parsa ideale nei mezzi impiegati un organo Hammond invece di un'orchestra in Francia Pierre Boulez direttore disponeva di tredici orchestrali Salvini la considera comunque componente essenziale della rappresentazione come risulta dai tanti precisi interventi previsti sul copione tutti puntuali nel potenziare ora la drammaticità ora a commentare spesso coralmente la vicenda nella quale appunto soprattutto il cuore coinvolto viene trattato con meticolosa attenzione nel sincronizzarlo con le voci dei solisti il critico musicale Carlo Marcello Rittman sul secolo XIX osserva ottima come musica di scena intelligente agli effetti di un commento underplayed diventa insufficiente se rapportata a quella che doveva essere la musica di Milo giusto il ramarico insomma che non sia stata raggiunta l'armonia espressiva nel rapporto fra testo e musica tanto caro al drammaturgo anche le coreografie e le pantomime curate sapientemente da Medi Verström o Bolensky ritmavano sia il coro sia le allegorie di invidia ignoranza vanità e avarizia due anni dopo Nervi la vela spiegata riappariva anche nella regia di Barrault come un simbolico objet magique il che parebbe sembrare un plagio eppure alla prima francese il lanzarotto genovese pubblicò l'unica comparazione dei due spettacoli con fotografie e osservazioni sulla musica la ricezione nelle numerose recensioni mostra una critica libera e talvolta severa con il risultato non quindi valutazione unanime favorevole ma una gamma di sfumature che attestano la risposta articolata e responsabile degli spettatori di professione del tempo Roberto Rebocora sostiene tutto rimane come travolto e sottomesso da un linguaggio che teso a una verità non si preoccupa in un certo senso di inventarla e finisce con il risultare falso enfatico melodrammatico teatro d'opera allo stadio di convenzione tutto è stato tirato via in fretta secondo il peggior senso dell'effetto ereditato da Forzano Enrico Bassano compara con Lodella all'opera di Vega ma con il suo Colombo delude poiché a contatto della grande figura sembra essersi lasciato sopraffare dalla grandiosità del dramma e all'opera del poeta si è sostituita quella del teatrante in luogo di un canto alto flebile che sia ma canto Cristoforo Colombo portatore di Cristo ha soltanto suggerito al poeta cristiano uno spettacolo un grande spettacolo ma spettacolo la tecnica di questo pretesto è quella ci si perdoni l'accostamento dell'attuale rivista per Silvio D'Amico scene meravigliose e ottimi interpreti per Roll Radice l'effetto è di sacra rappresentazione impressioni di cronisti da Roma e da Venezia molto fumo e poco arrosto Casello lo scrive su orizzonti e un altro preferirono i Globetrotters al libro di Cristoforo Colombo di Clodel questa prima mondiale ha attratto solo gli stranieri lo diceva da Aurora sul gazzettino sera di Venezia concludendo sento di poter evadere dalla convenzione formale su un argomento che meriterebbe ben altra ampiezza ed acume scientifico per sottolineare valore memoriale e di testimonianza che scambi come questo ci consentono siamo noi documenti primi le persone basta darci il luogo e l'ora e farci parlare dice un anonimo non databile e per ringraziare gli organizzatori di questo incontro e riaffermare l'amicizia l'aspirazione all'approfondimento l'ispirazione alla ricerca è l'aiuto che devo a tante a molte persone a Dario Martini a Leopoldo Gamberini a Pascal Lecroix a Gian Domenico Ricaldone Paola Pioli Giorgio e Lillie Devoto Claudio Bertieri Maria Navaro e grazie davvero a tutti i pazienti uditori bene grazie grazie passiamo al cinema col professor Marco Cipolloni che attualmente all'università la sapienza di Roma e non lo so se il microfono guarda un attimo no è tutto a posto si lo rimetto a posto la gente che lavora con gli audiovisivi se la cava con gli audiovisivi per principio dunque allora intanto doverosi ringraziamenti un po' perché si ringrazia sempre per gli inviti ricevuti ma di più quando gli inviti ricevuti ci consentono di tornare nella città dove siamo cresciuti dove abbiamo vissuto grande parte della nostra vita quindi è doppiamente gradita la situazione poi invece cominciamo a cercare di mettere un po' di ordine nella mappa di oltre un secolo di cinema colombiano noi primi film che citeremo sono del 1904 gli ultimi intorno al 2010 quindi è più di un secolo di produzioni audiovisive dedicate a Colombo escludendo quelle per bambini che sono tutto un altro genere cartoni animati esiste tutta una produzione che ha diciamo come dire è tarata su un altro destinatario e quindi l'ho lasciata per il momento da parte magari in una prossima occasione ci dedicheremo a quello dunque intanto rispetto alla fama all'importanza storica del personaggio le rappresentazioni cinematografiche non sono tantissime nel mondo degli audiovisivi il Colombo più famoso non è se non indirettamente il nostro è un poliziotto italo-americano che però si chiama come si chiama esattamente per questa ragione perché loro volevano dare il nome di un italo-americano di antico radicamente allora hanno preso il più antico italo-americano che conoscevano e siccome la grafia e la pronuncia americana è Columbus la serie americana si chiama Columbo cioè hanno italianizzato il cognome diciamo pronunciato all'americana ovviamente noi l'abbiamo doppiato come il tenente Columbo riportando diciamo rimettendo le vocali al loro posto però è come dire significativo nel senso che in qualche modo anche questa serie fa parte indirettamente di un impatto dell'immagine di Columbo sull'immaginario collettivo perché il Columbus Day cioè il giorno di Columbo il 12 di ottobre è celebrato in tutte le Americhe con una una certa regolarità e con un formato che tra a cui tra l'altro dobbiamo le prime riprese che riguardano Columbo non riguardano la ricostruzione fittizia di vita di Columbo riguardano proprio filmare scene reali di celebrazioni del Columbus Day e persino la prima produzione cinematografica una produzione paté una produzione francese ma la paté pensava prodotti per esportarli in vari mercati del mondo il primo Christophe Colomb è un Christopher Columbus non si intitola Christophe Colomb ma Christopher Columbus perché la paté lo ha pensato per venderlo in America è fatto a quadri sono vari quadri c'è un quadro di Colombo che placca l'ammutinamento a bordo di una caravella di cartone insomma c'è un quadro sempre lo schema è sempre selezione di episodi della vita con lo schema soggiacente fortuna lotta per arrivare a un risultato risultato e poi come dire la fase delle amarezze insomma quindi Colombo negletto in carcere e che vede a flashback la sua gloria passata insomma ma l'ultimo quadro di questa produzione del 1904 ci racconta mette in scena teatralmente una finta rappresentazione del Columbus Day con le bandiere americane la parata eccetera eccetera e questo apre due aspetti ci fa vedere due aspetti che saranno come dire vertebrali nel cinema colombiano uno una certa vena metacinematografica cioè se noi guardiamo quel quadro lì che riproduce il Columbus Day e gli altri quadri che riproducono la vita di Colombo non sono strutturalmente troppo diversi nel riciclare fondali teatrali schemi di ripresa eccetera quindi insomma il cinema e le celebrazioni il cinema diventa uno specchio e anche uno specchio critico delle celebrazioni e le celebrazioni diventano un modo che il cinema ha per riflettere su di sé cioè la costruzione di un'immagine le celebrazioni costruiscono un'immagine il cinema costruisce un'immagine quindi come dire il cinema si specchia nelle celebrazioni e da un lato ne ricava autocoscienza un'autocoscienza anche critica e dall'altro spunti per riflettere e mettere in luce aspetti della retorica celebrativa o per amplificarli per farne un elemento retorico di ulteriore positiva celebrazione oppure per operare una prospettiva di distanziamento critico l'altra caratteristica che noi possiamo ricavare da questo primo film che dura 12 minuti e che oggi sarebbe un cortometraggio all'epoca era già una produzione abbastanza impegnativa questa è un'altra caratteristica di tutte le produzioni su Colombo e c'è un conflitto latente in questo da un lato sono produzioni nelle quali i finanziatori vorrebbero un'intenzione celebrativa di una prospettiva nazionale nazionalista addirittura continentalista nelle Americhe quindi noi mettiamo soldi per avere la celebrazione di questa prospettiva la nostra ma il cinema è per avvocazione una macchina che soprattutto nell'epoca del muto quando non c'era la barriera delle lingue è tendenzialmente molto universale molto internazionale e siccome in queste produzioni mettono soldi in tanti più delle volte i film sono coproduzioni questo rende i cast internazionali rende tutto quanto esposto all'idea di una celebrazione quindi c'è una sorta di lotta dentro questi film semplificando un po' tra un colombo universalista un colombo in cui il cinema riflette un'immagine di se stesso qualcuno che vuole vedere il mondo e far vedere il mondo agli altri ci sono molte scene in questi film soprattutto nella fase preparatoria dell'impresa in cui colombo è una specie di imbonitore è un è un uomo che cerca di far vedere alla regina Isabella agli altri sovrani d'Europa al re del portogallo alle commissioni scientifiche che deve convincere fargli vedere un mondo che non c'è e quindi in questo in questo senso come dire ha un è un tipo di eroe un tipo di immagine con cui il cinema identifica molto se stesso cioè una macchina che serve a far vedere alle persone delle cose prima che ci siano no una macchina prefigurativa la potremmo dire questo fatto che molti ci mettono soldi fa sì che tutti i film su colombo al di là del risultato artistico spesso non all'altezza delle aspirazioni i budget sono sempre piuttosto alti le produzioni su colombo sono state nel loro tempo delle megaproduzioni delle produzioni con un budget importante negli anni venti negli anni della prima guerra mondiale nel 1916 viene girato in Spagna il primo lungometraggio su colombo è un lungometraggio vero sono 100 minuti che all'epoca era quasi un colossal e anche qua la coproduzione è francese gli attori sono francesi ma le riprese si fanno in Spagna si fanno in Spagna perché c'è la guerra mondiale e quindi la Spagna è un paese neutrale si possono girare i film con relativa tranquillità è la prima produzione del cinema spagnolo che supera il milione di pesetas che è una cifra anche simbolica ma all'epoca davvero enorme la più grande produzione del muto spagnolo fino a quel momento e anche questa è una produzione con molte scene lo schema è un po' lo stesso di quella del 4 ascesa trionfo e declino di Colombo con però molte più scene molti più quadri non sono più cinque quadri sono quasi una ventina di quadri il che spiega anche perché il film poi diventa le riprese sono in ambienti reali si vedono realmente in città della Spagna e in parte in teatri di posa ma la cosa fondamentale è uno schema uno schema proprio che si ripete io le ho contate sono più di 20 le porte e la vita di Colombo è raccontata come fosse un gioco di sliding doors è un uomo che quasi sempre lo vediamo in una situazione disperata problematica che sta per abbandonare i suoi sogni sta per perdere la speranza e si trova davanti a una porta che qualche volta è di un convento di una città di una reggia di una chiesa di una taverna bussa e dopo una qualche negoziazione gli viene aperto c'è un incontro con qualcuno che diventa una specie di aiutante magico come nelle fiade e lo aiuta a ritrovare la fiducia e la speranza Colombo è rappresentato per tutta la prima parte della sua vita fondamentalmente come un genovese un genovese a Genova e un genovese in Portogallo inserito nella comunità genovese di Lisbona e poi come una persona che deve negoziare con le divisioni della corte spagnola Isabella contro Fernando per capirci Fernando fa una bruttissima figura nelle produzioni colombiane le produzioni colombiane sono molto ingiuste con Ferdinando d'Aragona fanno di Ferdinando d'Aragona intanto un succube della moglie cioè una persona che vive comandato a bacchetta alla fine che ha grande paura e che però tutti questi film hanno una minima molto meno che per esempio nei film dedicati alla vita di Francis Drake dove il rapporto di Francis Drake con la regina Elisabetta è fortemente carico di elementi di seduzione reciproca nei film di Colombo non è così forte però c'è questa Colombo seduttore Colombo che vuole convincere le persone Colombo cinema Colombo arte della seduzione e Isabella che in qualche modo gli crede perché Colombo o è un bel uomo o la racconta bene per così dire ecco e Fernando di conseguenza in questa sua ostilità a Colombo viene ritratto spesso anche come un po' geloso come uno questa cosa poi arriverà al suo estremo in una delle produzioni del quinto centenario quella diciamo inglese non quella europea quella anglo-americana non europea dove Colombo è proprio un avventuriero capo e spada sembra il quinto moschettiere del re e lì anche proprio con Isabella più o meno ci prova insomma ecco è provolone ragazzi ecco però questa cosa se noi la vediamo è un po' in tutte le produzioni di Colombo cioè nel personaggio di Colombo è un visionario un profeta un mistico eccetera eccetera la connotazione varia ma è sempre comunque qualcuno che usa delle risorse di seduzione proprio perché deve vendere qualcosa che non è come dire una merce presente quindi è un mercante visionario è un mercante come gli altri mercanti genovesi ma è un mercante visionario è un mercante che vende un'idea è un mercante che vende qualcosa che non c'è cosa succede questa produzione gioca tutta sulle porte le porte si aprono nella prima parte fino al viaggio e fino al ritorno di Colombo che è proprio il trionfo si aprono tutte le possibili porte insomma le porte non sono neanche più chiuse lui entra direttamente da porte già aperte ecco e poi comincia una seconda parte dal secondo viaggio in poi mentre il primo viaggio viene raccontato da tutti i film su Colombo molto bene gli altri viaggi di Colombo vengono riassunti ricapacitati ai tempi del muto da cartelli qualche volta rappresentati ma molto parzialmente e di solito anche quando c'è la rappresentazione di questa parte di Colombo di la vita di Colombo sono scene alternate un po' girate in Spagna poi ti dicono che lui ha fatto il viaggio e un po' girate nel nuovo mondo quindi ci sono due Colombo uno nel vecchio e uno nel nuovo mondo ma non ci fanno più vedere le traversate e in questo periodo sono tutte porte che si chiudono perché lui viene rappresentato come una grande vittima dell'ingratitudine come un uomo costretto a fare questo noi sappiamo anche oltre la sua morte insomma tutta la storia dei pleitos colombinos delle cause che i figli di Colombo intenteranno per vedere riconosciuti i diritti che loro avrebbero in teoria riduttato e che gli vengono misconosciuti dei figli di Colombo non vengono di solito rappresentati tutti viene rappresentato soprattutto Diego Diego Colombo è presente in molte di queste produzioni come personaggio spesso come personaggio bambino come personaggio che accompagna il padre che il padre lascia i fratti insomma che sono anche stilemi che tra l'altro il cinema spagnolo ha usato spesso lasciare i bambini ai fratti pensate a Marcellino ecco no i film spagnoli sono spesso film con Migno e con Orfanatrofio facciamo un salto andiamo verso la fine di questa storia e poi vi dico cosa c'è nel mezzo il salto ci porta al 2010 a una produzione cinematografica già di un cinema che è passato al digitale di Siar Boyain che è stata una collaboratrice di Ken Loach compare nel personaggio della cuoca nel film spagnolo di Ken Loach sulla guerra civile tanto che poi si è diciamo è diventata la compagna di vita di Laverty che è lo sceneggiatore di Ken Loach quindi il film è sceneggiato da lui è girato da lei è un film con Gael Garcia Bernal che fa la parte di un regista messicano la parte di un regista messicano incaricato di realizzare una coproduzione internazionale su Colombo con la produzione spagnola c'è un produttore spagnolo interpretato da un produttore spagnolo che vuole risparmiare vuole risparmiare tanto che scelgono come paese per le riprese perché costa meno Cochabamba in Bolivia la Bolivia ha la caratteristica di essere l'unico paese di tutta l'America Latina che non ha un accesso al mare di conseguenza uno dice se raccontiamo la storia di un grande navigatore prende filmandola in Bolivia che è l'unico paese che non ha il mare e tutto il film è caratterizzato da un lato da questo vorrei ma non posso ma poi da una presa di coscienza di questo regista messicano del fatto che produrre un film su Colombo e girarlo in America Latina riproduce tutta una parte dei meccanismi di dominazione di sfruttamento molta parte delle ambiguità che hanno caratterizzato anche la vita di Colombo e quindi si crea una sorta di conflitto tra il regista e il produttore che è un conflitto che riproduce quello che era il conflitto tra Colombo e i sovrani di Spagna ecco il film vede questa troupe solidarizzare molto con la popolazione indigena che loro utilizzano come comparse che sta facendo una mobilitazione per difendere l'acqua della regione da una captazione di agua dovuta alla privatizzazione e alla concessione dell'acqua questa guerra dell'acqua si è svolta veramente nel 2000 in Bolivia e quindi il film racconta un fatto reale anche in parte un documentario infatti uno dei conflitti che emergono è quello tra la regista del making of quando si fa un film si fa un altro film che racconta come è stato fatto il film che di solito finisce nei contenuti speciali questa da un lato parlando con questi indigeni si rende conto che loro sono stati veramente conquistati hanno la stessa ossessione per loro che avevano dicendo perché voi fate questo film cosa vi aspettate da questo film come vi coinvolge questo film e questi dicono non si interessa la pasta in adamasse solo vogliamo prendere i soldi ci interessano i soldi però gli raccontano anche che loro hanno ben altri problemi che hanno questo problema e questo intravede la possibilità di trasformare il suo making of anche in un documentario sociale un documentario che racconta una vera storia di sfruttamento questi due piani si sovrappongono si intrecciano sempre più anche con scene molto emotive perché gli indigeni soprattutto quando vanno poi a vedere i giornalieri alla fine dei film le troupe rivedono il girato della giornata mentre interpretano non si rendono conto che c'è qualcosa che richiama loro degli altri sfruttamenti di cui sono vittime ma quando vedono l'effetto di queste scene girate montate oggettivate si sentono veramente come dire troppo violentati si vedono violentati per cui a un certo punto si rifiutano per esempio di girare una scena dove le donne dovevano affogare i loro bambini questi gli spiegano no ma no ma è per finta non preoccupatevi eccetera eccetera e loro dicono no ma noi una cosa così non ce la vogliamo neanche immaginare noi questa cosa non la facciamo quindi in realtà c'è questo meccanismo che poi si rovescia questa scena dei giornalieri con gli indios che si spaventano nel momento in cui la truppa viene costretta a stare in albergo perché non si può più andare a fare le riprese le strade la città Cociabamba è una città abbastanza grande sono cortadas o dalle manifestazioni o dagli scontri o presidiate dall'esercito e dalla polizia loro sono in albergo e vedono sullo schermo le immagini girate dai telegiornali delle proteste nelle quali riconoscono tra le vittime delle cariche della polizia tra coloro che agitano gli altri indios e parlano gli altri indios le comparse del loro film quindi loro vedono un film che non hanno girato loro con gli stessi personaggi del film che girano quindi è un perfetto cortocircuito poi alla fine si regala uno di questi indios che ottiene poi l'appoggio della troupe per recuperare la bambina che si era persa negli scontri eccetera insomma riconoscono mutuamente il valore umano una dell'altra queste due comunità e il dono simbolico c'è uno scambio di doni simbolici uno è un copione che è stato mezzo bruciacchiato mezzo bagnato durante gli scontri quindi non si legge più però viene lasciato agli indigeni come ricordo del fatto che hanno partecipato a questo progetto che non può continuare del film su Colombo perché il paese è in guerra e loro regalano una bottiglietta d'acqua che è il ricordo del fatto che avevano vinto la guerra dell'acqua che erano riusciti quindi come dire l'acqua lo scambio di doni il mutuo riconoscimento sarebbero un perfetto riassunto del possibile significato del cinema colombiano un viaggio attraverso l'acqua e poi un faticoso sofferto ambiguo mutuo riconoscimento tra due comunità umane tra l'altro c'è proprio diciamo sviluppa questo film di fatto quello spunto che vi dicevo stava nel film del 1904 il momento in cui il cinema si rende conto che è un doppio del Columbus Day è un doppio della celebrazione ecco questo film riflette in maniera molto più radicale molto più analitica su questa contraddizione in mezzo tra questi due terminali cosa c'è? ci sono delle grandi produzioni delle grandi coproduzioni internazionali normalmente in concorrenza a in occasione più o meno del 450 centenario e del quinto centenario una europea e una più o meno anglo-americana e succede nel dopoguerra perché ovviamente nel 1942 è estremamente complicato pensare di realizzare che che sia in un mondo in guerra però subito dopo la guerra viene prodotto un Christopher Columbus che ha queste caratteristiche molti molti denari e come dire film poco vivona che non riesce a mettere insieme tutte le sue anime ha tante anime il problema del cinema colombiano è questo che ha tante anime vuole raccontare tante storie insieme qualche volta ci riesce qualche volta no quando non ci riesce commercialmente poi questa cosa non funziona e a questo risponde una superproduzione spagnola franchista Alba de America che usa il film di maggiore impegno economico del cinema franchista fino a quel momento anche lì ed è come dire estremamente retorica pro spagnola Colombo è un uomo che senza lo spinzone senza i fratelli pinzone non è più neanche in grado di trovare il bagno cioè insomma sono loro che sedano l'ammutinamento sono loro che convincono Colombo esce poco dalla sua gabina è un uomo perso viene presentato un uomo un sognatore un uomo perso nei suoi sogni quelli che hanno senso pratico sono Isabella i pinzone eccetera eccetera Ferdinando al solito è tratteggiato come uno tiranneggiato dalla moglie però è come dire anche lui è un po' più volitivo che in altri film è più in forma che in altri film ecco la cosa si ripete nel 92 con quel colombo di cappa e spada che vi dicevo cioè il colombo seduttore avventuriero cioè sviluppa molto l'idea del film di avventura dell'avventuriero colombo ma talmente tanto che sembra di vedere un cartone animato con attori in carne ed ossa non ci crede nessuno insomma e poi la megaproduzione quella con Depardieu che fa colombo per capirci quella che probabilmente avete visto tutti che è un film professionalmente molto ben fatto con delle belle musiche di Vangelis con un cast ricco abbondante eccetera eccetera però è veramente la sua la sua immagine è l'immagine dello sbarco tutta filmata a rallent è un film lento proprio è pesante proprio si sembra di sentire il peso di questo film che è molto lungo due ore e mezza abbondanti insomma e tra l'altro l'hanno anche scorbiciato perché era ancora più lungo insomma Marco il migliore è quello di Latuada da quello che racconti tu no direi di no a me piace di più un'altra una produzione cinematografica italo-spagnola che è quella con Paco Rabal quella del 68 che è appunto un come dire un altro mondo è possibile no cioè è ovviamente ha due registri li vediamo bene questa storia dei due registri c'è un registro che è quello degli attori recitato che è piuttosto serio sono quattro puntate realizzato con i soldi della Rai però in Spagna da televisione spagnola è una coproduzione televisiva quindi non è un prodotto cinematografico è uno sceneggiato sono quattro puntate però deve molto al cinema deve molto al cinema perché il regista Cottafavi era stato un regista di Peplum è un regista di film dell'epoca d'oro girati nel deserto di Tavernas siamo nel 68 è l'epoca in cui le collaborazioni nel campo audiovisivo tra Italia e Spagna sono al loro massimo si girano più di 40 spaghetti western all'anno nel deserto di Tavernas più altri film di genere musicarelli insomma e in realtà questa coproduzione risente di questo effetto cioè ha delle cose delle scene filmate in maniera un po' cinematografica ha un cast con dentro molti attori anche di cinema e ha soprattutto questi due registri narrati un piano quello dei dialoghi che è molto serio molto parla al microfono si è un piano che è molto serio di dialoghi un po' magniloquente un po' retorico ma poi ha una voce narrante che invece prende una prospettiva più scanzonata più ironica che dipinge appunto Colombo come uno anche un po' svitato nel suo genere cioè è un uomo di genio ma è un po' un personaggio come ce ne sono spesso nel cinema uno svitato di talento la rappresentazione degli indigeni anche è molto interessante perché gli indigeni sono rappresentati di solito in tutti gli altri film sono un misto di nativi americani e di e di esottismo dei mari del sud invece in questo sono veramente figli dei fiori cioè li vediamo che fumano che ridono che cantano che ballano sono veramente un po' l'equivalente del movimento hippie sono degli indians del 68 insomma per capirci e quindi questo controcanto tra una voce narrante che è piuttosto invadente come spazio cioè ha un peso quasi paritario al dialogato e certe volte persino di più e invece i dialoghi che sono molto pomposi e seri e molte trovate di ripresa che sono molto molto devono molto al cinema di seriale hispano-italiano gli spaghetti western la scena dello sbarco per esempio è l'unica che è rappresentata con un'idea secondo me geniale cioè i personaggi vengono ripresi da soli mentre saltano nel vuoto il salto dalla scialuppa verso il nuovo mondo è come un salto nel vuoto e poi a margine ci sono anche produzioni più ancora più apertamente parodiche farsesche farsesche farses con la musica farses teatrali da noi abbiamo i capolavori teatrali di questa cosa sono testi di Dario Fo Isabella il Cacciaballe e Juan Pavani i colombo di Dario Fo la discoverta delle Americhe Isabella e Isabella Trecaravelle in Cacciaballe a fumetti noi abbiamo il colombo di Altan che è di nuovo ma esiste anche Cristóbal Colón di Oficio Descubridor che è una farsaccia dell'epoca della transizione spagnola dove come dire veramente ci sono doppi sensi anche triviali la prima immagine che vediamo di Colombo sono lo sfamosso suevos de Colón cioè lo scoto di Colombo però ci sono idee assolutamente farsesche i titoli di testa scorrono per esempio mentre gira davanti a noi un mappamondo quadrato però in questo delirio vengono riprese anche alcune cose molto fantasiose per esempio il film finisce con la scena in cui arrivano al nuovo mondo finisce con la fine del primo viaggio però poi tienti qualcosa per l'approfondimento successivo Marco no in realtà dicevo loro arrivano in un arrivano la prima cosa che vedono un enorme cartello pubblicitario della Coca Cola e poi quando Colombo sbarca vede come il Colombo del 1904 che rivedeva tutta la sua storia al passato in questa specie di immagine a fumetto lo stesso effetto viene ripreso e Colombo vede tutta la storia dell'America intesa come Stati Uniti d'America in avanti vede immagini della guerra del Vietnam Marilyn Elvis Presley eccetera ed è un film più o meno girato nell'epoca dei Blues Brothers possiamo dire che è un film musicale che ha è il contrario dei Blues Brothers perché mentre i Blues Brothers vanno a cercare gente che fa un altro lavoro che gestisce un bar fa il cameriere in un ristorante to get the band back together per rimettere insieme la banda in missione per conto di Dio qua Colombo anche lui in missione per conto di Dio convince invece i fratelli Pinson e Juan de la Cossa che hanno messo su un complessino e suonano nelle taverne del porto a get back the crew together rimettere insieme l'equipaggio per fare il viaggio comunque la chiudiamo qua cito ancora una volta Colombo e mi giro e dico ancora una cosa grazie grazie Marco interessante ci saranno degli sviluppi da fare mi pare hai dato delle tracce sulle quali lavorare ancora di più musica abbiamo due per la musica Tiziana Canfori Conservatorio Paganini e poi Davide Mingozzi Università di Genova prego Buonasera io oggi sono funestata da attacchi di tosse che spero non capitino in questo momento ma mi sono portata l'acqua farò del mio meglio questo incontro si chiama avvio di una ricerca interdisciplinare e mi sembra un momento prezioso in effetti ho molto apprezzato la passione di Marco Cipolloni che è sempre travolgente perché si tratta un po' di tracciare delle rotte di aprire delle strade di farsi venire delle idee quindi io non ho un oggetto esatto da analizzare con voi ma portando i saluti del conservatorio che rappresento in questo caso vorrei aprire un pochino il discorso su come affrontare che cosa può voler dire Cristoforo Colombo in termini musicali rispetto a Marco che è stato molto appassionante con cento anni di storia noi in realtà ne abbiamo cinquecento abbondanti perché la musica Antonna Colombo nasce vicino alla scoperta dell'America e comunque anche questa scoperta si inserisce in un mondo musicale che è in piena evoluzione abbiamo fatto quest'anno su richiesta proprio del centro di studi colombiani un incontro sulla musica ai tempi di Colombo abbiamo fatto la nostra fatica a sostanzialmente a trovarla e a riuscire a riprodurla perché è una musica molto raffinata molto di corte molto corale lo strumentale praticamente non è quasi presente mentre dopo la scoperta dell'America si sviluppa anche musica una ricchezza enorme si sviluppa la musica strumentale certo non è merito di Colombo ma siamo in quel momento di cerniera che significa poi nuovi sviluppi in effetti da subito l'esistenza di nuove terre influenza la musica europea oltre ai 500 anni in realtà abbiamo a che fare con un mondo allargato quindi abbiamo documentazione in diversi in diversi punti mi viene in mente la passione per le nuove terre espressa da Rameau così con un richiamo al mito del selvaggio per esempio e oppure al Montezuma di Graun opera settecentesca che si richiama all'ambiente della della conquista parlando dei conquistati subito capiamo che ci sono diversi chiavi di lettura di questo personaggio che è in fondo la cosa che ce lo rende più simpatico e più prezioso al momento perché abbiamo molte informazioni ma non abbiamo così tanta documentazione sul personaggio Colombo da chiudere il discorso quindi la nostra immaginazione ancora si può muovere liberamente e in musica vedremo che in effetti succede abbiamo una grandissima impresa che richiama creatività tecnologia fiducia coraggio oppure espansione politica ed economica insomma sono molti i temi che possono essere sottolineati parlando di Colombo in genere ma anche parlando di Colombo e la musica per esempio rimanendo piuttosto sul panorama italiano voglio darvi alcune idee di che cosa succede e che cosa troviamo nelle nostre biblioteche musicali intanto sicuramente troviamo il Cristoforo Colombo di Alberto Franchetti scritto per le commemorazioni del 1892 sul libretto di Luigi Illica indicativo perché andiamo su un librettista importante dell'epoca è un'opera in quattro atti un epilogo prima al Carlo Felice assolutamente un caposaldo l'abbiamo anche ripresa noi alcuni anni fa proprio intorno al 92 è comunque materiale musicale un po' difficile da trattare abbastanza pomposo abbiamo il Cristoforo Colombo di Carlo Andrea Gambini di cui poi ci parla il professor Mingozzi praticamente moltissima di questa musica è completamente da studiare ancora è manoscritta tra parentesi non sappiamo e questo sarebbe un altro motivo di indagine non conosciamo gusti musicali di Colombo non almeno non mi risulta che ci siano scritti in cui ci venga raccontato in quale ambiente musicale viveva sicuramente aveva contatti con la musica perché bastava essere su una nave con dei marinai che quantomeno un canarì lo si ballava insomma ma è molto difficile avere testimonianze di questa cosa quindi il discorso musicale viene sempre attaccato così con un po' di fantasia con un po' di immaginazione c'è poi non so un Cristoforo Colombo di Alfredo Alessio un testo di Serafina Riva poi una marcia per il bianoforte poi trascritta anche per mandolino e chitarra qui cogliamo anche quello che è il mondo ottocentesco particolarmente a Genova dove c'è una grossa scuola di chitarra e mandolino e le grandi marce magari concepite per orchestra o per coro poi venivano anche ridotte in una dimensione più domestica per gli strumenti a pizzico Feliciano David Cristoforo Colombo sia la scoperta del nuovo mondo ode sinfonia in quattro parti eccetera del 1847 quindi l'ottocento abbastanza carico di drammi di odi di sinfonie intitolate a Colombo cinque cantate di Giuseppe Dogliani per esempio poi c'è Cristoforo Colombo di Donizetti cantata per baritone orchestra ogni tanto Donizetti faceva queste opere diciamo minori come quella sul conte Ugolino che sono molto interessanti e anche anche belle questa appunto del 1845 poi Paolo Giorza un ballo su Cristoforo Colombo José Hidalgo il trionfo di Cristoforo Colombo marcia per mandolina e chitarra qui evidentemente il termine trionfo e la marcia si fanno pensare alla descrizione di un Colombo vittorioso cioè all'arrivo in America come una vittoria mi sembra francamente un termine su cui mi interrogo anche oggi perché anche nelle recenti avvenimenti la parola vittoria è usata spesso come soluzione di un problema ma è un termine militaresco cioè vincere è sopraffare qualche ad un altro andare a scoprire una terra nuova è una vittoria della scienza del coraggio forse ma non non è una vittoria militare ecco un termine militaresco è sintomo di un certo modo di leggere le cose poi un poema sinfonico di Renzo Masutto un melodrama serio di Vincenzo Mela Enrico Zambelli una cantata Cristoforo Colombo spesso sono esercizi di grandi opere che poi vengono anche trasformate per altri organici per esempio per banda ci sono delle cose è un po' un un repertorio encomiastico che viene utilizzato da da tutti i gruppi che fanno musica soprattutto nell'ottocento e prima novecento ovviamente seguendo quella che è la politica del momento la cosa interessante è che da una parte abbiamo l'encomio dall'altra abbiamo questo personaggio che ci interroga non è difficile immaginare la solitudine di Colombo la fatica il coraggio la testardaggine delle qualità umane differenti che ci avvicinano a questo personaggio di cui sappiamo meno che di altri e questo è vero anche in musica attraverso Colombo escono diverse tonalità di lettura degli eventi e del personaggio fra cui alcune intime adesso mi piaceva farvi una minuscola carrellata di testi anche questi vengono da uno spettacolo che abbiamo fatto per la fondazione con un piccolo gruppo di nostri jazzisti che hanno ritrovato grazie anche a una ricercatrice della fondazione casa america degli spunti musicali e facendomeli un attimo toccare in effetti si sente il sapore di una poliedricità sempre molto viva di questo personaggio comincia infatti con una cosa abbastanza buffa che è una canzone dello Zecchino d'Oro del 99 che si intitola La Ligna la Pinta e la Santa Maria canzoncina deliziosa devo dire non sempre lo sono quelle dello Zecchino questa gioca gioca un po' sul sul viaggio sulla sulla meccanica sembra un po' un cartone animato effettivamente ve ne leggo un pezzettino un di Isabella regina di Castiglia donò a Colombo un piccolo naviglio tre caravelle con scialuppe e l'equipaggio deciso a tutto anche a fare un arrembaggio così Colombo ammiraglio genovese con tanta ciurma ma con poche spese partì per l'India con le vele al vento ma proprio il vento poi lo tradì e alla fine dice e al ritorno Isabella di Castiglia donò a Colombo un toro e una mantiglia al capitano e anche a tutto l'equipaggio quattro pesetas e un chilo di formaggio si fece festa per 120 giorni non solo in Spagna ma anche nei dintorni e questo grazie a Colombo viaggiatore che per errore l'America scoprì ecco una cosa anche divertente su cui questa semplice canzoncina lavora è l'errore cioè il fatto di prendere con coraggio una strada talmente coraggio da superare anche un errore tutto sommato abbastanza drammatico e spaesante con lo spaesamento può fare parte del bagaglio di Colombo un'altra tonalità invece per esempio è quella di Guccini che parla dell'uomo marinaio che guarda al mare quindi questa questa attrazione verso l'infinito e dice in Cristoforo Colombo proprio si intitola la canzone ed è nell'album ritratti del 2004 è già stanco di vagabondare sotto un cielo sfibrato per quel regno affacciato sul mare che dai mori è insidiato e di terra ne ha avuta abbastanza non di vele e di prua perché ha trovato una strada di stelle nel cielo dell'anima sua se lo sente non può più fallire scoprirà un nuovo mondo ma come lui è una donna convinta che il mondo non può finir lì ha la mente già tesa all'impresa sull'oceano profondo qui abbiamo Isabella di cui parlavamo prima Caravelle è una ciurma concesso per quel viaggio tremendo per cercare di un mondo lontano ed incerto che non sa se ci sia ma è già l'alba e sul molo la braccia una raffica di nostalgia e naviga naviga via verso un mondo impensabile ancora da ogni teoria naviga naviga via nel suo cuore la nina la pinta e la santa maria quindi è il viaggio stesso il protagonista di questa storia naviga naviga ma quell'oceano è di sogni e di sabbia poi si alza un sipario di nebbia e come un circo illusorio si illumina l'america dove il sogno dell'oro ha creato mendicanti di un senso che galleggiano vacui nel vuoto affamati d'immenso labba beliche torri in cristallo già più alte del cielo fan subire al tuo cuore uno stallo come a un icaro in volo dove da una prigione e una luna d'amianto l'uomo morto cammina dove il giorno del ringraziamento il tacchino in cucina e mentre sciami assordanti daerei circondano di ragnatele quell'inutile america amara leva ancora e alza le vele e naviga naviga via più lontano possibile da quella assordante bugia naviga naviga via nel suo cuore la nina la pinta e la santa maria quindi la delusione non del conquistatore ma del viaggiatore del ricercatore che trova scopre un mondo che poi è un mondo un pochino di carta pesta e questo è un po' nel tema anche di Rimini di D'Andrea che avevamo citato perché parla proprio di di Colombo lo cita ovviamente ci preoccupiamo sempre un po' quando quando si esprime di Andrei perché parla molto chiaro perché esprime una contestazione corposa ma è interessante se leggiamo bene che questa contestazione non è su Colombo ma sull'utilizzo che delle scoperte di Colombo viene fatto poi politicamente infatti Rimini vi ricordo 1978 è quella che comincia Teresa agli occhi secchi e fa questo parallelismo molto strano fra Rimini e l'America le due coste affacciate verso Oriente quando parla di Colombo dice e Colombo la chiama Teresa dalla sua portantina lei gli toglie le manette ai polsi gli rimbocca le lenzuola per un triste re cattolico le dice ho inventato un regno e lui lo ha macellato su di una croce di legno e due errori ho commesso due errori di saggezza abortire l'America e poi guardarla con dolcezza ma voi che siete uomini sotto il vento e le vele non regalate terre promesse a chi non le mantiene quindi è un bel problema che ci pone anche De Andrè questo fatto che lo scoprire lo scoprire scientifico o geografico o della ricerca comunque può essere malinterpretato o mal utilizzato in effetti se noi parliamo di musica intorno a Colombo intanto abbiamo questo problema di dover un po' abbracciare tutto il mondo e poi abbiamo il problema di dover coraggiosamente arrivare molto vicini perché è un personaggio molto vivo che poi si collega col cinema giusto appunto con delle forme d'arte molto recenti un'altra tonalità colombiana sulla rotta di Cristoforo Colombo di Dalla del 72 che assomiglia un pochino a 4 marzo 1943 con questa visione del porto dei pescatori dei marinai di chi viaggia di questi uomini soli e dice la mia casa era sul porto i miei sogni riva al mare diventavo marinaio ero pronto per partire sulla rotta di Cristoforo Colombo io volevo andare via per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia quindi Colombo come fuga ogni giorno c'è chi parte verso isole lontane ma la gente qui nel porto è sempre uguale ogni sera guarda il mare e non ha niente da dire a pensarci sembra quasi che lo voglia ringraziare quindi qui l'attrazione del mare dell'infinito dello sconosciuto e questa malinconia che fa parte c'è il Colombo eroico quello che appunto vince e estermina e fa brutti affari con gli schiavi che è probabilmente anche reale in parte ma la parte di Colombo capace di immaginare capace di affrontare le nostalgie e le solitudini e di mantenere fissa un'idea anche di fronte alle difficoltà questa la possiamo ancora interpretare oggi oppure questa la conoscete probabilmente però è carino leggerla per gustarsela un attimo voglio scoprire l'America di Fred Buscaglione in 1957 è la visione di Buscaglione naturalmente comincia con una specie di rap molto carino che dice il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò lo disse alla regina lo disse pure al re e l'indomand mattina lo disse ad altri tre e i dotti venuti a Salamanca seduti sulla panca lo stettero a sentirsi voglio scoprire l'America a New York e al Dixieland la gomma che si mastica al tempo di Jazz Band voglio scoprire l'America il gioco del baseball i gangster che passeggiano col mitra d'armacol finalmente incontrerò Jesse il bandito pranzerò con Shanghai Lee con il capo dei Siu Toro Seduto e col grande Buffalo Bill voglio scoprire l'America non ditemi di no tre caravelle datemi e io ve la scoprirò il sogno è molto legato al cinema è molto legato ai miti del novecento ma anche questa forma quasi da cartone animato da fumetto in uno stile molto elegante che era quello di Buscaglione poi naturalmente arriva Marilyn voglio scoprire l'America la Marilyn Monroe la donna supersonica che l'atomo spezzò vive laggiù in America la bella Marilyn che ancheggia assai più morbida di un ritmo medium swing a più curve di una strada di montagna chi la vede può impazzire e quindi sogna anche di rubarsi Marilyn l'argomento Colombo che si tira dietro all'argomento America arriva poi ai temi della modernità ma anche ad allacciarsi a temi del cinema con una disinvoltura che è anche molto moderna quindi vedendola dal punto di vista di un conservatorio e della possibilità di ricerca andiamo dalla ricerca storica andando molto indietro ai tempi di Colombo su cui secondo me c'è ancora della strada da fare ma naturalmente con documenti che sono parziali rispetto ai secoli seguenti abbiamo la grande riflessione settecentesca e poi le grandi opere ottocentesche che a volte sono anche belle sono curiosa di sentire quello che ci dirà adesso Mingozzi di Gambini la possibilità di riproporre queste opere c'è a volte non sono nemmeno così enormi e si potrebbero riprendere e poi c'è questa possibilità di lavorare un po' più sul filosofico e quindi sui temi colombiani e arrivare fino a oggi e interrogarci su come si può fare un percorso che è stato un percorso di mare e di sapienza navigatoria rifarlo attraverso o le carte o l'immaginazione e gli accostamenti scoprire il nuovo mondo vuol dire anche collegare il mondo intero in un certo senso quindi questa apertura che Colombo sperava di trovare verso occidente per noi adesso vuol dire aprire a linguaggi diversi a paesi diversi a lingue diverse quindi siamo felici di continuare a lavorare con voi grazie grazie tiziana completiamo la musica con Davide Mingozzi dell'università di Genova che ci parlerà in particolare di Carlo Andrea Gambini Buon pomeriggio a tutti grazie a tiziana Canfori per avermi dato il là e grazie soprattutto all'ottoressa Gualco e alla Fondazione Casa America per questo invito che cade proprio alla perfezione negli studi che sto compiendo ormai da un po' di anni su Carlo Andrea Gambini questo carneade genovese non totalmente però incognito all'epoca Gambini nasce a Genova nel 1819 e vi muore nel 1865 ed è stata una delle figure di riferimento del panorama musicale italiano del panorama italiano di metà ottocento fu un pianista apprezzato un prolifico compositore il cui catalogo spazia dalla musica per pianoforte a quella da chiesa al melodramma alla produzione cameristica nel 1845 iniziò una fruttuosa collaborazione con la Gazzetta musicale di Milano era il principale periodico italiano musicale dell'epoca penna mordace nell'arco di poco meno di vent'anni Gambini pubblicò più di 150 recensioni a spettacoli operistici genovesi e alle novità editoriali che gli editori Lucca e Ricordi pubblicavano in quegli anni svolse al contempo complice forse anche la sua attività di critico un ruolo fondamentale per la diffusione del repertorio a lui contemporaneo e in breve tempo il salotto di Casa Gambini che per inciso sta qua dietro perché abitava in salita Castelletto nella palazzina rossa attualmente sede del consolato di Islanda ebbene Gambini divenne uno tra i principali ritrovi musicali cittadini e la partecipazione a queste accademie degli amici Camillo Sivori e Adolfo Pescio la cantante Teresa Parodi Verdi Stefano Golinelli Adolfo Fumagalli il direttore Angelo Mariani testimoniano l'importanza che Gambini ebbe e il suo salotto ebbero non solo nella diffusione del repertorio musicale coevo ma anche nello sviluppo di una riflessione estetica nella quale Gambini si fece portavoce nei suoi scritti il suo orizzonte musicale guardava oltre il provincialismo genovese e convive interesse invece per la produzione musicale d'oltre Alpe che Gambini sincretizzò in uno stile personale pianistico in cui si riscontrano echi dell'opera di Chopin Talberg Liszt Beethoven Mendelssohn e Schumann in ambito vocale guardò ai colleghi italiani Bellini Donizetti Mercadante e in parte a Verdi al quale tuttavia rimproverava alcuni eccessi verso gli oltremontani aveva una grande ammirazione per Meyerberg intrattenne un rapporto ambiguo con l'ambiente musicale cittadino sebbene inserito pienamente nella cultura genovese ebbe sempre rapporti burrascosi con l'impresa del teatro Carlo Felice e guardò anzi con invidia al vivace mondo musicale milanese con il quale tenne stretti rapporti in particolare con l'amico Isidoro Cambiasi le sue origini liguri contribuirono però all'ammirazione per Cristoforo Colombo e quindi non deve stupire che l'esploratore con cittadino diventasse ben presto interesse del compositore il 17 novembre 1850 la gazzetta musicale di Milano aggiornò ai lettori circa gli ultimi impegni di Gambini il compositore si stava dedicando a cito un nuovo grandioso lavoro di un genere ancora intentato dagli italiani si tratta di un'ode sinfonia il Cristoforo Colombo ossia la scoperta del nuovo mondo basata su un libretto francese di Joseph Merit Charles Chauvet Sylvain de Saint-Étienne già musicato da Felicien David nel 1847 tradotto in italiano e ampliato dal genovese Giuseppe Torre non è noto come Gambini abbia moturato l'idea di questo progetto ma il primo accenno che ne fa in una lettera all'amico Cambiasi il 9 giugno 1850 lascia intendere che il progetto era già da tempo avviato la stesura procedente è spedita e l'autore aveva preso contatti con la società filarmonica di Firenze per la sua esecuzione esecuzione che si tenne il primo giugno 1851 diretta da Teodulo Mabellini la scelta di Firenze e non Genova per questa esecuzione non fu casuale Firenze da almeno una ventina d'anni grazie proprio alla figura di Teodulo Mabellini si stava imponendo a livello italiano per una vivace attenzione alla musica strumentale e sinfonica l'esecuzione fu un successo è lo stesso Gambini il giorno dopo a raccontare ancora emozionato scusate ancora questo è Teodulo Mabellini è ancora emozionato l'amico Cambiasi il successo della sera precedente ieri è stato per me uno dei più bei giorni della mia vita il mio colombo a cotesta filarmonica ebbe la più lusinghiera accoglienza e mi procacciò undici chiamate come compositore e tre come pianista avendo anche suonato tra una parte e l'altra dei pezzi tutti i pezzi di cui si compone l'ode sinfonia furono applauditi nessuno accettuato l'esecuzione fu buonissima per parte dell'orchestra ed avrebbe potuto essere migliore per parte dei cori i quali hanno sempre la pretensione di eseguire senza far prove bastanti fu qui molto lodato lo strumentale che mi riuscì in molti punti assai imitativo ricco e variato senza fragore ciò che fece anche più senso a molti che non si aspettavano da un pianista una certa pratica a conoscenza dello strumentale ma Bellini diresse l'orchestra col massimo impegno la critica fu particolarmente favorevole a Gambini sulla Gazzetta Musicale di Milano il severissimo Luigi Ferdinando Casamorata lodò la parte strumentale trattata con scelte e buone intenzioni imitative e con una franchezza sicura nello aggruppare nello impiegare gli strumenti da disgradare un provetto scrittore per orchestra cosa tanto più mirabile in un giovane di cui il Colombo è uno dei primi lavori per orchestra e che nell'arte è cresciuto principalmente come pianista in linea generale potremmo definire quest'ode sinfonia come una grande cantata non scenica in cui intervengono i soli il coro e una voce recitante che funge da trait d'union tra i vari quadri in essa l'orchestra come vedremo per poco non si limita al solo accompagnamento delle voci ma descrive l'ambientazione con effetti descrittivi molto interessanti i personaggi del Colombo sia nella versione francese di Davide sia in quella di Gambini sono sei Cristoforo Colombo il marinaio Fernando e l'amata Elvira un secondo marinaio un mozzo una madre indiana e a questi si aggiunge lo storico ossia la voce recitante abbiamo inoltre la presenza del coro di volta in volta i marinai i geni dell'oceano i selvaggi che si configura come un vero e proprio personaggio l'azione è suddivisa in quattro quadri il primo la partenza è ambientato nel porto di Palos dove tutto è pronto per la partenza e di Colombo e dei suoi compagni che nell'accomiatarsi dai familiari giurano di seguirlo nella grande impresa la seconda parte una notte dei tropici un mozzo piange alla lontananza della madre i marinai trascorrono il tempo in allegria ma le canzoni sono interrotte dall'arrivo di una tempesta i naviganti invocano la protezione della Madonna la tempesta svanisce e si torna ai canti e alla gioia nella terza parte intitolata la sommossa i marinai esasperati dal lungo viaggio e dalla calma del vento che rallenta minacciano Colombo un vento favorevole ridona però moto alla nave e la sommossa viene sedata la quarta parte il nuovo mondo si apre con la prodo dei naviganti cui segue una folcloristica danza dei selvaggi una mesta di una nanna di una madre indiana che culla un figlioletto morto precede il canto gaudioso dei marinai per la scoperta del nuovo mondo l'ode sinfonia si compone di 12 in gergoli chiamiamo numeri quindi 12 parti suddivisi in modo disomogeneo fra le quattro parti la corrispondenza con il Colombe di David nella slide la potete vedere è pressoché totale ampio spazio destinato ai cori che occupano nell'ode sinfonia di Gambini tre dei 12 numeri previsti e intervengono con ampie sezioni nelle aree dei solisti il compositore genovese perseguendo un ideale di canto espresso a lungo nei suoi scritti confezionò una composizione in cui il gusto italiano per la melodia si unisce a riminiscenze d'oltre alte una partitura quanto mai ambiziosa con un organico corposo corposto da archi flauti ottavino clarinetto trombone o ficleide quattro corni trombe arpe e svariate percussioni e la cui strumentazione oltremodo complessa e avviluppata sorregge energicamente il canto avvicinandosi più ai modelli francesi di Mayerbert e di Berlioz che non alla linearità degli operisti italiani degno di interesse è il ricorso a elementi descrittivi affidati all'orchestra ed è forse in questo aspetto che possiamo riscontrare il carattere sinfonico del lavoro tale descrittivismo musicale si colloca su due differenti livelli che interagiscono fra di loro vi propongo alcuni esempi il primo più generale è la presentazione pittorica affidata all'orchestra tramite cellule tematiche ricorrenti per tutta la partitura portatrici di significati descrittivi specifici in apertura della prima parte il placido movimento delle onde increspate dalla brezza è dipinto da un intervallo di seconda ripetuto ossessivamente su cui si innesta una breve figura melodica discendente quasi fosse la prua di una nave che fende il mare ora perdonerete l'ascolto ovviamente il colombo di Gambino non è stato mai eseguito quindi vi faccio sentire un estratto suonato dal computer è come vedere un quadro in bianco e nero però possiamo come dire farci un'idea in bianco Assenti in Davide è invece il tema dei marinai, presentato da Gambini subito dopo l'introduzione, è l'eco di una gioiosa marcia solenne che giunge da lontano, affidata ai soli fiati prima e cresce vie più a piena orchestra con l'avvicinarsi della spedizione. Un analogo trattamento descrittivo si può riscontrare nell'utilizzo di melodie ispirate a un descrittivismo dal sapore esotico ma dal carattere talvolta vagamente naif. è il caso della danza e coro dei selvaggi nella quarta parte caratterizzata da un andamento ossessivo sostenuto da un tamburello e da un sistro a campanelli che è quello strumento che ho riportato lì, abbastanza inusuale oggigiorno ma all'epoca costituiva una parte fondamentale della cosiddetta banda turca che era una componente dell'orchestra. Il secondo livello descrittivo più dettagliato è offerto da piccole cellule tematiche non sempre ricorrenti con le quali l'orchestra commenta i versi cantati o recitati. Il numero in questo senso che si presta maggiormente a questo naturalismo musicale è senza dubbio la tempesta che chiude la seconda parte nella quale abbiamo l'avvicinarsi della bufera è descritto dal compositore ricorrendo al tema della prua che avevamo già visto all'inizio dapprima in pienissimo e poi in crescendo con delle brusche fermate dai violoncelli e contrabbassi posti in rilievo da delle acciacature e dal rullo dei timpani che annunciano il lontano mormorare dei tuoni portati dal vento nel mentre il coro dovrebbe cantare già soffia il tuon, già scoppia il vento frequente il ricorso anche a scale cromatiche rapide in crescendo per descrivere la sfuriata della tempesta questo stesso cromatismo che prima era ascendente, discendente e indiminuendo viene adottato da Gambini per raffigurare l'allontanamento della tempesta. La figurazione viene ridotta alla sua cellula elementare quindi se un cromatismo è un susseguirsi di semitoni lo riduciamo a un semitono unico ripetuto ossessivamente che come all'inizio aveva anticipato l'arrivo della buriana annuncia ora scomparendo il ritorno del sole la calma è descritta dal clarinetto che ripropone il tema della canzone che il mozzo stava cantando e che era stata interrotta dall'arrivo della tempesta qua siamo in pianissimo quindi non si sente grazie a tutti appare quindi evidente che l'orchestra in questo caso non si limita al solo sostegno delle voci quindi per inteneci non abbiamo un trattamento dell'orchestra di tipo verdiano ecco ma è essa stessa un personaggio ed è fautrice di una serie di quadri altrimenti non delineati ed è un corollario descrittivo al testo cantato e recitato. Un tale trattamento dell'orchestra si configura come un unicum nel panorama italiano per l'appunto sono gli anni del cosiddetto Zoom Papà di Verdi ecco il trattamento molto differente è quello adottato da Gambini negli stessi anni perché siamo comunque nel 1851 pochi mesi prima di Rigoletto per intenderci nell'orchestrazione si riscontra appunto l'attenzione verso il repertorio d'oltrealpe e gli strumenti non solo partecipano alla massa sonora dell'orchestra ma partecipano, concorrono essi stessi con il loro timbro a specifici effetti descrittivi significativo a tal proposito, questo è Gambini, il ricorso a indicazioni esecutive molto precise legato assai con accento misterioso, mormorando, lamentoso, perdendosi che sono quasi delle linee prospettiche di una tela, sorreggono la partitura e disvelano il paesaggio celato dietro il pentagramma nella conduzione della voce Gambini ricorre a una cantabilità di gusto tipicamente italiano belcantistico con delle melodie lineari e semplici e che non indugiano in acrobatiche volute e praticamente assente qualsiasi agilità Gambini nutri molte speranze in questo suo lavoro e si impegnò finché potesse essere eseguito anche altrove ma ogni suo sforzo fu vano e vivente Gambini, Gambini muore nel 65, il Colombo non fu più eseguito fu riproposto alla società filarmonica di Firenze il 17 febbraio 1877 suscitando l'ammirazione di un critico che all'epoca lo definì un felice tentativo di musica descrittiva a Genova il ricordo di Gambini andò via via affievolendosi nonostante l'affetto degli allievi Emilio Bozzani, fratelli Cesare e Luigi San Fiorenzo, primi fra tutti nel 1892 il Comune interpellò Giuseppe Verdi per un parere su chi incaricare per la composizione di un'opera celebrativa a Cristoforo Colombo in occasione dei 400 anni dal viaggio dell'esploratore il maestro di Buseto indicò in Alberto Franchetti il cui Colombo sul libretto di Luigi Illica risuonò nella sala del Barabino, giusto oggi la ricorrenza perché fu il 6 ottobre 1892 alla presenza del re Umberto I e della regina Margherita. Nel tripudio di questi festeggiamenti Pietro Carboni che era all'epoca vice bibliotecario dell'Università di Genova pubblicò un corposo e voluminoso studio sui rapporti tra Colombo e il teatro. All'interno vi descriveva per sommi capi l'Ode Sinfonia di Gambini concludendo a Tranchant di, cito, andar sicuri che il lavoro di Gambini non avrà avuto gli splendori di quello di Feliciano David, a sancire insomma l'oblio a cui il nome di Gambini era inesorabilmente avviato. Vorrei concludere con un invito. In questo tripudio di festeggiamenti del 1892 Genova scrisse tanta musica dedicata a Colombo Carlo Bossola che è discendente di un'illustre famiglia musicale impiantata a Genova scrisse un grande waltzer per il quarto centenario di Colombo Giovanni Battista Polleri che fu direttore del liceo musicale scrisse un'operina intitolata Colombo fanciullo della quale però sopravvive ben poco e soprattutto un altro compositore locale Ettore Perosio scrisse un'apoteosi di Colombo la cui partitura è stata recentissimamente ritrovata dopo che era stata per lungo tempo ritornata dispersa. Bene, il 4 novembre prossimo a Villa Serra a Comago si terrà un evento che è organizzato dedicato a Ettore Perosio e a Niccolò Massa che sono due compositori genovesi di fine ottocento e nell'occasione verrà eseguita un'aria con violino concertante proprio dall'apoteosi di Colombo di Ettore Perosio. Quindi chi avesse piacere alle 16 è un sabato pomeriggio del 4 novembre è invitato a intervenire. Bene, grazie per la sua esposizione, per le informazioni che ci ha fornito e per le valutazioni che ha espresso. Grazie molto. Allora concluderemo con una finestra importante che abbiamo sugli Stati Uniti sull'America del Nord perché abbiamo ora un video che ha trasmesso William Connell che è collegato, mi dicono, credevo che fosse solo un video, è anche collegato, che ci parlerà appunto di Colombo negli Stati Uniti. William Connell è del Centro Studi Colombiano, è nel Comitato Scientifico del Centro Studi Colombiano ed è della Seton Hall University. Prego, William Connell. Buongiorno, innanzitutto vorrei appoggiere un caro saluto a tutti. Un sincero ringraziamento a Carlo Togualco e Roberto Speciale per il loro gentile invito di presentare questo contributo alquanto ironico, ma forse anche piacevole. Oggi negli Stati Uniti la festa del Columbus Day e le numerose statue di Colombo sono invariabilmente associate all'Italia e agli italo americani. Gli italo americani celebrano la festa con banchetti e parate e la festa rimane il principale punto di riferimento dell'identità italo americana in questo paese. Ma non è stato sempre così. Le celebrazioni pubbliche di Colombo esistevano negli Stati Uniti già dalla fine del XVIII secolo, molto prima cioè dell'inizio della grande migrazione italiana, successo dal 1880 fino al 1924, quando vennero istitute le quote di immigrazione. Solo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, infatti, i leader delle comunità di immigrati italiani, assistite in questo dal governo italiano, decisero di enfatizzare la nascita genovese di Colombo come modo per ottenere l'accettazione della loro presenza in un paese non sempre accogliente e talvolta apertamente ostile nei confronti del gran numero di italiani che allora arrivavano nelle città americane. In questo breve contributo mio, che potrebbe essere considerato un appendice al mio capitolo nella storia degli iteroamericani edita da Mondadori, vi presenterò una lettura non italiana della figura di Colombo con le sue radici nel secolo precedente la grande migrazione dall'Italia. Se le ricerche moderne confermano che Colombo era effettivamente nato a Genova, nell'attuale Italia, cioè, e più recentemente si è scoperto che i suoi viaggi furono in gran parte finanziati o furono in parte finanziati da investitori italiani. Ma l'attuale enfasi negli Stati Uniti sulla sua italianità richiedeva a suo tempo un'aggressiva campagna da parte degli stessi italiani poiché gli americani di allora avevano presente un'altra immagine dell'uomo. Non c'è modo migliore, anche se inaspettata, per illustrare questo punto e fare una visita al piccolo paese di Goldsburg, in Pennsylvania. Situata al centro dello Stato, una cittadina di 3.700 abitanti, lontana dalle principali autostrade e circondata per chilometri e chilometri da terreni agricoli e foreste, una famiglia di immigrati irlandesi, il nome Bol, vi si stabilì alla fine del XVIII secolo. I Bol si distinzero per il loro servizio militare nelle guerre nazionali e divennero un'importante famiglia e carriera della zona. Il protagonista di questa piccola narrazione di oggi è Pedro Bol, il quale divenne un noto architetto il cui studio aveva sede a Washington. L'architetto comunque trascorreva le sue estati al nord a Goldsburg, nella casa dei suoi antenati, dove progettò una casa molto bella che oggi è diventata un museo. Ma ciò che ci interessa in modo particolare, il motivo di questa strana escursione, è una piccola cappella in pietra costruita nel 1909 sul terreno della casa. Chiamata da Columbus Chapel, essa fu costruita da Theodore Bol per ospitare mobili e decorazioni provenienti da un castello in Spagna appartenuto ai condiscendenti, ai discendenti di Cristoforo Colombo, arredi che furono spediti da Bol al proprio paese. L'interno della cappella, riccamente decorata, contiene dipinti del XVI secolo. C'è anche questo trono, dipinti del XVI secolo, c'è uno scrittoio detto dell'ammiraglio che secondo si dice fosse adoperato da Colombo in uno dei suoi piaggi. e qui in questa cappella ci sono anche due scheggi della vera croce nella cappella e poi c'è l'archivio della famiglia con documenti, registri che a partire dal XV secolo. Da notare che l'archivio è stato inventariato e filmato dalla Pennsylvania State University. Ma rimane poco studiato. Ma perché a Bolsburg in Pennsylvania? Perché nella piccola città? Perché in questa casa? Quando l'architetto Theodore Boll era studente a Parigi conobbe e sposò Matilda Denis de Lagarde. Matilda era la nipote di Vittoria Montalvo Colonna. E questa Vittoria già dama di compagnia della regina di Spagna Isabella II poi diventò moglie di Diego Colonna l'ultimo della stirpe di Diego Colombo il primo genito di Cristoforo. Come si vede anche da questo albero genealogico. la famiglia Colonna occupava una posizione elevata nella società nobiliare di Spagna con ampie proprietà tra cui un castello nelle Asturie. di Diego prima di Diego morì prima della moglie Vittoria la quale poi alla sua morte lasciò gran parte della proprietà alla nipote preferita Matilda ormai sposata con l'architetto americano Theodore Boll e così nel 1909 Boll fece costruire la Columbus Chapel e fece spedire l'attuale contenuto della cappella dalle Asturie alla Pensilvania. È una storia curiosa il fatto che sia accaduta testimonia la straordinaria straordinario potere simbolico esercitato da Colombo nell'immaginario americano. È poi ragionevole a luce di questa storia ma nonostante quello sorprendente per chi conosce le odierne devozioni italiane nei confronti di Colombo che tutto che si trova a Bolsberg riguarda solo la Spagna e la cultura spagnola e non ci siano elementi italiani. questo legame la connessione con la cultura spagnola continuò nella generazione successiva dei Bol perché il figlio di Theodore Pierre divenne ambasciatore in Nicaragua e Bolivia e ha portato a Bolsberg come trofeo da queste missioni una pistola che si dice appartenesse proprio a Simone Bolivar la nostra escursione a Bolsberg può sembrare strana o stravagante ma vale la pena per notare la totale assenza di riferimenti all'Italia o alla cultura italiana sono riferimenti che si trovano oggi nella cultura popolare negli Stati Uniti che sono stati infatti innestati dagli immigrati italiani su un'immagine di Colombo già esistente perché tra le classi conte l'immagine di Colombo era incentrata in gran parte sulla Spagna e sul mondo ispanico per accompagnare le ben note imprese militari e i cospicui investimenti commerciali nel corso dell'Ottocento qui negli Stati Uniti si sviluppò ai più alti livelli della società nell'Ottocento un interesse culturale e una relazione della Spagna e dell'America ispanofone in cui Colombo ebbe sempre un ruolo di primo piano così l'imponente biografia di Colombo di Washington Irving fonte peraltro di numerose leggende attorno all'esploratore fu un'opera immensamente popolare tra i numerosi ma era solo uno tra i numerosi classici della letteratura e della storiografia americana che alimentarono l'interesse per il mondo spagnolo e ispanofono tra questi segnalerei i racconti dell'allambra scritti anch'essi da Irving le storie di Prescott sui regni di Ferdinando e Isabella di Filippo II sui conquesti di Messico e di Perù segnalerei un bellissimo studio di un mio maestro italiano Giorgio Spini un saggio uno studio splendido su Prescott e poi la storia dell'inquisizione storia dell'inquisizione di l'inquisizione spagnola di Henry Lee dietro l'interesse popolare per queste opere c'era il sentimento generale che gli Stati Uniti protestanti in lingua inglese fossero destinati a diventare dominanti là dove la Spagna cattolica in un tempo gloriosa ma debole e decadente aveva fallito è una cosa strana ma interessante una ricerca che ha fatto Connell però ora la parola a Anna Maria Saiano prego vieni qua che ci parlerà cioè dialogherà con l'immagine di Cristoforo Colombo auguri 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 ma ne abbiamo già parlato durante durante tutta la giornata e io sono stata qui come al solito a imparare e mi è venuta in mente una come dire una metafora per descrivere questo questo convegno e ovviamente mi tocca il graditissimo obbligo anzi non è un obbligo è un piacere di ringraziare Roberto Speciale e Carlotta Gualco e tutto lo staff di Fondazione Casa America per aver organizzato il tutto e aver confezionato proprio un buonissimo prodotto che il comitato sia di indirizzo e il comitato scientifico hanno immediatamente abbracciato noi qui non stiamo né seminando un terreno né raccogliendo un raccolto noi stiamo effettivamente arando un terreno forse siamo anche precedentemente all'aratura in quanto in quanto tale di questo terreno e vedo questo terreno come come dire come un terreno ha diversi colori a diverse sfumature queste sono le immagini di Cristoforo Colombo che ci sono state raccontate sotto diverse prospettive e che negli Stati Uniti oggi America Stati Uniti Stati Uniti America è stato forse una delle parole maggiormente citate sotto certi punti di vista me ne dispiace perché sembra quasi che il gesto che ha fatto scomparire Cristoforo Colombo sia solo ed esclusivamente collegato agli Stati Uniti e invece oltre agli Stati Uniti abbiamo tutta l'area caraibica abbiamo tutto il Centro America abbiamo tutto il Sud America perché poi è comunque da Cristoforo Colombo che arrivano poi gli altri cosiddetti conquistadores se vogliamo parlare dei viaggi di di scoperta come viaggi di conquista e poi i vari geografi i vari scopritori i vari colonizzatori e quant'altro noi abbiamo quindi un terreno che è come è stato fatto come in Unione Sovietica erano i famosi piani quinquennali c'era solamente grano e doveva essere grano per tot anni c'era solamente mais e doveva essere mais per tot anni e via dicendo quindi il grosso problema che io ho negli ultimi tempi affrontato soprattutto con i miei con gli interns con gli stagisti che ho avuto presso il mio ufficio per discutere di relazioni internazionali ma poi anche la mia stessa vocazione è stata quella di di cominciare a vedere questi pezzi di terreno non solo non in maniera monolitica quindi non solo celebrazione del gesto di scoperta non solo celebrazione della scoperta non solo commemorazione della conquista non solo come come dire come attacco a quelli che erano i colonizzatori non solo diciamo la luce negativa che si poteva come dire mandare e proiettare su tutti su tutta la pletora di appunto di geografi di scopitori di navigatori di colonizzatori di conquistatori che hanno seguito Cristoforo Colombo ma ma appunto arando tutte queste diverse diverse terre cercare veramente e mi piace molto l'ho detto a Carlotta mi piace molto l'immagine che è stata scelta per questa per questo convegno perché è un'immagine tentacolare e ce l'hanno dimostrato tutti gli interventi di questa di questa giornata Cristoforo Colombo nel bene e nel male perché solamente legato agli Stati Uniti d'America perché non al Sud America che spesso viene dimenticato ma grazie a Fondazione Casa America qui a Genova non lo abbiamo mai dimenticato il Sud dell'America ci troviamo di fronte ad una figura tentacolare che da un certo punto di vista possiamo vedere come mostro e dall'altro punto invece possiamo vedere come figura poliedrica figura che si manifesta attraverso immaginifica mitopoietica che si come dire che si dibatte tra mito e storia tra realtà e finzione tra fatti di cronaca e fatti inventati e lui stesso Cristoforo Colombo ne inventava di fatti e quindi veramente stiamo arando dei percorsi che sono stati cementificati e solidificati in immagini monolitiche stiamo cercando dei solchi diversi ed è è un grandissimo lavoro è veramente un grandissimo lavoro e tutte queste suggestioni che abbiamo ottenuto oggi per chi ha seguito da questa mattina sono veramente davvero importanti perché la figura di Cristoforo Colombo forse un po' tutte le figure storiche se vogliamo andare a fare una ricerca rigorosa sono tali la figura di Cristoforo Colombo proprio perché come dire mette in mezzo un oceano sconfinato laddove invece il Mediterraneo era un mare chiuso laddove invece il Cipango e il Catai erano solo raggiungibili attraverso vie di terra Cristoforo Colombo solcando i mari e diciamo rispetto a quella canzone che la dottoressa Canfori ci ha illustrato mari che comunque scusi mari e venti che comunque non lo non lo tradirono perché capì il ritorno la ricorrenza degli alisei scoprendo quel mare e quindi una nuova terra e poi un altro oceano perché oltre all'Atlantico c'era poi si scoprì poi il Pacifico veramente chiuse in qualche maniera il cerchio negli Stati Uniti lo avete sentito questa mattina e oggi pomeriggio non lo devo ripetere la figura di Colombo è stata una figura che ha servito la costruzione della nazione la costruzione dell'identità degli Stati Uniti d'America abbiamo sentito che le prime abisaglie di una celebrazione di Cristoforo Colombo sono arrivate nel 1792 quindi a pochissimi a pochissimi anni dall'indipendenza degli Stati Uniti d'America e giustamente Gabriella Eraldi sempre precisa ce lo ha ricordato perché Cristoforo Colombo ha aperto un nuovo capitolo rispetto a quello che era la cosiddetta vecchia vecchia Europa mi corre sempre l'obbligo quando io parlo di 1792 di ricordare per esempio che la prima rappresentanza statunitense qui a Genova fu creata nel 1797 quindi a 21 anni dalla indipendenza degli Stati Uniti d'America dalla corona britannica e questo perché perché c'era ovviamente un legame con il porto con la manieria con i commerci con il fatto che effettivamente si parlava di Genova come porta dell'Europa e ancora lo è ma anche rispetto a Cristoforo Colombo abbiamo poi visto che la costruzione della nazione è continuata nell'ottocento è stato citato almeno quattro volte Washington Irving 1828 un bellissimo un bellissimo libro che anche lì come dire supporta la costruzione di questa nazione nuova degli Stati Uniti d'America e poi quando questi Stati Uniti d'America sono diventati il melting pot il crogiolo delle razze un crogiolo delle razze che doveva come dire invece sciogliere quelle che erano le caratteristiche identitarie delle singole razze perché ovviamente parlando di razze parlando di razze in quanto tali si fa pensa sempre a dei gruppi etnici chiusi il crogiolo invece voleva dire mettiamo questi gruppi etnici tutti insieme mischiamoli viene fuori l'identità nuova un'identità nuova il nuovo il new American man il nuovo uomo perché ovviamente c'era sempre come dire una tendenza a mascolinizzare tutto adesso bisognerebbe mettere un mucchio di asterischi per poter parlare in questo senso l'identità dell'americano nuovo dell'individuo nuovo che rappresentava ideali di libertà di democrazia del fatto della nuova frontiera del fatto di poter buttare il cuore per usare una frase così molto spesso utilizzata buttare il cuore oltre l'ostacolo come in effetti nel nostro immaginario quello più tranquillo di quel campo arato da molti decenni sia in ambito accademico che in ambito popolare è l'immagine più ricorrente di Colombo colui che sfida lo si paragona poi ad Ulisse ci sono anche poeti che io amo tantissimo come William Carlos Williams che lo lo paragonano Colombo Art Crane quando parla del 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 bridge del ponte tra vecchio e nuovo mondo fa comunque un paragone tra Colombo e Ulisse andare oltre le colonne d'Ercole quindi sfidare quello che è l'ignoto questo va bene questo va bene per tutto l'ottocento questo va bene anche per tutto il novecento va bene per gli italo-americani è già stato ripetuto molte volte anzi vi invito per esempio ad andare a vedere il museo dell'immigrazione italiana commenda di pre troverete appunto in una in un'area in un'area del del museo proprio il riferimento a a quel famoso linciaggio di undici di undici talo-americani da parte di sempre tra virgolette bianchi suprematisti che non gradivano avere questi italiani che lavoravano molto e che potevano prendere e rubare il lavoro ecco che allora Colombo diventa non poteva essere Dante Alighieri non poteva essere Michelangelo Leonardo da Vinci ci fu un dibattito su questo Leonardo da Vinci era come dire fin troppo era qualcosa che volava troppo troppo alto Colombo e non aveva legami diretti con con gli con gli Stati Uniti Colombo invece ben si prestava a rappresentare visto che per tutto il settecento e l'ottocento gli americani stessi lo avevano così rappresentato ben si prestava a rappresentare una comunità italo-americana che voleva diventare parte integrante della comunità ospitante tutto questo è andato bene fino ad un certo punto direi fino a quando il secolo americano brilla di luce propria parliamo dopo la seconda fin dopo la seconda guerra mondiale il novecento è il secolo americano il terzo i primi cento anni del terzo millennio non lo non lo sono questo secolo americano ad un certo punto come dire si scontra con il fatto che il crogiolo di razze è un discorso che magari non può più essere sostenuto questo viene fuori viene fuori negli anni sessanta con le proteste fine anni sessanta con le proteste contro la guerra nel Vietnam e poi negli anni negli anni settanta e ottanta quando si solidificano dei movimenti pensiamo appunto anni sessanta settanta Martin Luther King eccetera quando si solidifica appunto la questione che questa diciamo questa spinta ideale al crogiolo delle razze non può più non può più tenere e è già stato citato il 1992 l'ha citato questa mattina Gabriele Leraldi l'hanno citato altri che mi hanno che mi hanno preceduto il cinquecentenario della scoperta dell'America o come venne poi non tanto scoperta dell'America ma viaggi di scoperta verso verso le Americhe e si dibatté molto tra commemoration e celebration anche lì pensiamo sempre ai campi che dobbiamo arare dobbiamo sempre parlare di celebrazione se vogliamo parlare di commemorazione in che termini lo vogliamo fare il 1992 diciamo in qualche maniera pose sul piatto della discussione talvolta accesa del confronto che si spera sempre civile pose la questione di quello che era la la schiavitù e il razzismo e allora viene fuori da quel momento in poi quella che per me è diventata un pochino il mio karma io uso sempre una una frase sia che ne parli con i supporter di Colombo e quelli che invece lo criticano aspramente non c'è mai bianco e nero io non sono assolutamente per il bianco e nero vorrei sempre queste zone di confronto e di e di discussione detesto il cosiddetto manicheismo per cui per me è stato e lo faccio con i miei con i miei stagisti facciamo discussioni facciamo conversazioni andiamo a fare ricerca rigorosa su quello che è il burden of legacy e la legacy of burden cioè il peso dell'eredità di una figura importante importante come Cristoforo Colombo e l'eredità del peso di questa figura peso che si può vedere sotto le varie accezioni peso come effettivamente sostanza ma peso anche come fardello questo è diciamo quello che mi sta conducendo sempre di più e che quindi mi ha portato ad abbracciare vari filoni di ricerca quello che mi sta portando a interrogarmi e a cercare di chiarire la questione dell'immagine e delle varie immagini di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti in prima battuta il titolo di questa sezione era superare le immagini superare l'immagine negativa di Cristoforo Colombo il problema però è ma perché superare l'immagine negativa vuol dire un'immagine positiva di Cristoforo Colombo dobbiamo assolutamente positivizzarla se non possiamo negativizzarla non possiamo nemmeno totalmente positivizzarla ed è in questo dibattito tra il negativo e il positivo che bisogna continuare a lavorare a lavorare perché da una parte quello che Cristoforo Colombo come personaggio dell'immaginario rappresenta è sicuramente diciamo nel DNA degli Stati Uniti d'America lo spirito di frontiera come dicevo prima il voler avventurarsi oltre il conosciuto il non porre ostacoli a quella che è l'intrapresa individuale la creatività anche il cogliere le opportunità e comunicarle comunicarle ci sarà qualcuno dopo di me che parlerà della comunicazione ma dall'altra parte non si può non pensare a quelli che sono a quelli che sono state le condizioni che hanno permesso ad una certa storia di essere scritta e di essere celebrata se andiamo a vedere è sempre una storia scritta diciamo dai bianchi per i bianchi per celebrare una civilizzazione occidentale come se ci fosse solamente una civilizzazione e come se ci fosse solamente una civiltà io spesso ho detto che il grosso problema tra i moltissimi della civiltà nativa americana era che ci sono poeti americani che lo hanno in questo senso ben individuato era una cultura orale non aveva libri scritti sarebbe stato molto diverso se la 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 civiltà nativa americana avesse avuto dei testi scritti noi ne abbiamo ne abbiamo gli esempi in tutta la la cultura mediterranea quindi il l'eredità del peso l'eredità del peso di quella di quella scoperta è quella che noi dobbiamo andare a a investigare e investigare non per questo è quello che effettivamente si deve continuare a sostenere nel dibattito molto aspro molto acceso che c'è negli Stati Uniti quello non del da una parte del dire ma tanto tutti facevano così quelle erano le le coordinate di quel tempo gli schiavisti e i mercanti di schiavi c'erano e così si doveva fare certamente si può perdere in considerazione questo ma si può fare poi una disquisizione applicandola al contemporaneo senza eliminarne la sostanza non si può vedere e leggere e criticare la storia del passato con gli occhi e i criteri solamente di adesso ma si può effettivamente come dire insegnare attraverso quella storia vedendola con le lenti di oggi che sarebbe stato importante mantenere la diversità sarebbe stato importante sostenere l'equità e sarebbe stato altrettanto importante sostenere l'inclusione noi certe volte guardiamo ai nostri fatti storici ai nostri personaggi storici dalla comfort zone della nostra della nostra situazione pensiamo a noi a Genova in questa bella giornata siamo qui abbiamo passato tutta la giornata qua quindi vuol dire che abbiamo tempo a disposizione vuol dire soprattutto che abbiamo la possibilità di aprire le nostre menti e di ascoltare cose che magari non di cui non avevamo contezza io per prima mi trovo in questa condizione privilegiata la ritengo un privilegio pensiamo invece come si vive in una città americana pensiamo per esempio a Washington DC o a New York dove l'indice Gini di inequità di non equità di condizioni supera lo 051 pensiamo al fatto che quando andiamo per le strade di Washington la capitale dello Stato il numero degli homeless continua ad aumentare a New York anche per i due anni di covid a New York il numero degli homeless il numero degli afro americani o dei nativi americani o degli asiatici che non riescono ad arrivare alla classica fine del mese sta crescendo sempre di più questa sperequazione tra chi ha e chi non ha sta effettivamente mettendo in discussione il modello americano l'aumento degli indici di inequality è veramente negli ultimi anni indipendentemente dal covid ha raggiunto gli stessi livelli del 2008 2010 in una situazione di questo genere una persona a cui non vengono dati gli strumenti necessari come abbiamo noi gli strumenti necessari magari anche perché non se li cerca perché questo è da mettere in conto non vengono dati gli strumenti necessari per poter analizzare bene il il contesto e viene confrontato solo ed esclusivamente con celebrazioni di figure storiche si può parlare di Colomo ma si può parlare ve lo ricordate nel 2017 2019 le figure dei generali dei generali sudisti della confederazione degli stati del sud e quant'altro una persona che non ha questi questi strumenti che abbiamo noi una persona che non ha una comfort zone in cui rimanere come può come può in questo senso abbracciare la figura di Cristoforo Colombo come può non cominciare a criticarle magari per provocazione insieme magari anche gestito in una certa maniera magari per provocazione decide di far sentire la propria la propria voce quindi il superamento dell'immagine negativa di Cristoforo Colombo è come dire un falso problema noi dobbiamo cercare di far superare ad ognuno di noi quelli che sono i limiti della nostra comfort zone e cercare di offrire a chi ci contesta a chi ci critica a chi in qualche maniera ostenta la propria condizione di 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 svantaggio dobbiamo offrire a a lui o lei degli strumenti per poter avere una comfort zone che noi abbiamo che è quella della contestualizzazione diamo gli strumenti per contestualizzare diamo gli strumenti per dire sì c'erano i mercanti di schiavi ma non erano solamente bianchi non erano solamente cattolici vai a studiare quelle che erano le radici dello schiavismo in Africa ti do gli strumenti per per farlo quindi in questo senso il dibattito in questo momento negli Stati Uniti è molto molto intenso soprattutto nel mondo accademico d'altra parte abbiamo visto anche noi oggi gli accademici che si sono espressi molto bene su vari aspetti dell'immagine tentacolare di Cristoforo Colombo in questo momento il dibattito non è solamente mainstream non è i soliti va bene radical chic la solita sinistra liberale che vuole in qualche maniera lavarsi lavarsi la coscienza parteggiando per Black Lives Matter piuttosto che per Me Too piuttosto che per altri movimenti il dibattito è molto intenso perché non c'è solamente il mainstream liberale di sinistra ma c'è anche il mainstream della della destra americana che invece bandisce determinati libri come dall'altra parte si bandiscono determinati libri bisogna trovare effettivamente il cosiddetto giusto mezzo quell'area grigia che grigia non è ma è un'area dove si apre sempre il confronto la discussione si apre una conversazione e allora ben venga che ad un certo punto una statua di Colombo per esempio cito quella di Columbus Ohio Columbus Ohio che è una città gemellata con Genova viene rimossa per preservarla per preservare la bontà della relazione tra Columbus e Genova viene rimossa perché non venga vandalizzata e quindi non vada direttamente a stigmatizzare un determinato problema e viene contestualizzata in un luogo pubblico e musealizzata e quindi contestualizzata attraverso un percorso di immagini di descrizioni ovviamente sempre molto rigorose scientifiche che raccontano la storia di questa statua ma al tempo stesso raccontano anche il periodo del 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 personaggio di questa statua che è appunto Cristoforo Colombo quindi è un discorso estremamente variegato e devo dire che il centro studi colombiano da questo punto di vista sta veramente facendo un ottimo un ottimo lavoro l'avvio che è avviato tre anni fa con le identità di Cristoforo Colombo poi l'anno scorso e poi questo è veramente è veramente importante speriamo appunto di riuscire a creare degli eventi internazionali Carlotta tu mi chiederai il transcript di questo intervento io ho parlato assolutamente a braccio non ho nemmeno messo su ve lo dovevo fare il il registratore mi inventerò di nuovo qualcosa grazie 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 c'è un piccolo video di 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 Colombo nella memoria di Davide Salomoni dell'Università di Siena che facciamo vedere e subito dopo Carlotta Gualco concluderà questo nostro incontro indicando credo delle tracce dei percorsi degli obiettivi sui quali cimentarci nei prossimi mesi e nel prossimo anno vediamo il video buongiorno a tutti ringrazio la dottoressa Carlotta Gualco e la fondazione casa america per l'invito a questo importante momento di riflessione sulla figura di Colombo al quale purtroppo per impegni pregressi non posso partecipare personalmente benché sia lieto di poter contribuire da remoto mi avvio quindi senz'altro con il dire che un tema che ritengo potrebbe giovare a una rinnovata lettura della figura di Cristoforo Colombo adottando una prospettiva nuova un nuovo sguardo in vista dell'allestimento di un'importante mostra sulla sua figura riguarda la questione dell'eredità culturale nel senso più ampio del termine del navigatore genovese mi riferisco in particolare alla vexata questio delle origini di Colombo affrontare questo problema di natura squisitamente culturale che non significa mettere in nessun modo in questione la sua origine genovese offre infatti spazio ad alcune riflessioni interessanti nel contesto odierno il dibattito sulle origini di Colombo infatti genovesi quindi italiane ma contestate ancora con forza in varie aree regionali del mondo iberico che di volta in volta rivendica natali catalani galiziani lusitani al punto che negli anni recenti si è addirittura proceduto a un'analisi del presunto DNA del navigatore offre uno spunto non banale a ben guardare questo tipo di pretese si configurano oggi di orizzonte sempre più regionale e non più solo nazionale la domanda che potrebbe quindi porsi una mostra sull'esploratore è la seguente Cristoforo Colombo andando oltre l'annosa questione delle origini è un patrimonio culturale europeo? in un contesto ormai globale all'interno di una struttura politica come l'Unione Europea la figura e la memoria del navigatore possono essere guardate in modo maturo come un'eredità comune un'eredità condivisa si può in altre parole andare oltre la questione dei Natali Colombo oltre che a Genova e in Liguria visse infatti in Portogallo e in quella che è l'odierna Spagna e la sua identità fu come spesso accadeva a personaggi nella sua posizione flessibile e porosa un tema trattato all'interno della mostra potrebbe quindi essere quello di ricostruire attraverso l'esposizione di libri a stampa antichi in un percorso guidato seguendo una narrazione sapiente come e quando è nato su che basi si è strutturata la controversia sulle origini colombine sulla base di strumenti digitali di text mining infatti risulta che le menzioni del nome di Colombo nei testi a stampa europei si fa sempre più frequente a partire dal diciottesimo secolo momento in cui sarebbe così da rintracciarsi l'origine della contesa il fatto interessante è che proprio nel settecento affonda le radici il percorso storico che nel secolo diciannovesimo avrebbe portato all'affermazione degli stati nazioni in quel contesto la lotta per l'attribuzione delle origini del primo uomo che arrivò nel nuovo mondo l'America un contesto segnato dai drammi del colonialismo e della competizione tra potenze questo tipo di pretese poteva pure trovare una sua triste legittimità nel bisogno delle nazioni di presentarsi come protagoniste di un percorso di modernità che nell'ottocento per l'appunto giungeva ai suoi esiti più tragici e clamorosi resta da chiedersi come mai simili questioni restino oggi così vive negli animi nazionali e persino regionali un ambito quest'ultimo che nel mondo di oggi sembra paradossale benché in un paradosso solo apparente la mostra quindi affrontando questo tema offrirebbe spunti di riflessione su più piani interrogandosi sia sulla questione storica in sé sia sull'utilità della materia storica per comprendere il presente e le sue persistenti tensioni in tal modo la figura di Cristoforo Colombo si riconfermerebbe un potente simbolo di unione e non di separazione questo aspetto mi si permetta di dirlo è ancora più interessante alla luce delle recenti controversie che hanno interessato soprattutto il mondo anglofono dove l'immagine di Colombo viene sempre più associata alle tragiche eredità del colonialismo europeo sia in America sia altrove in fondo se ci riflettiamo bene non è casuale che l'origine del dibattito sulla nazionalità di origine di Colombo coincida con il periodo in cui le tragedie coloniali di cui egli è accusato di essere il capostipite giunsero al culmine tutto questo impone una riflessione è possibile forse considerare questa memoria storica di Colombo prima della sua persona fisica vittima di un cortocircuito in cui storia memoria e attualità politica si confondono accusando l'espansionismo e il nazionalismo ottocentesco così fieramente colonialista si è forse arrivati ad accusare Colombo nel quale alcuni stati ottocenteschi videro erroneamente un padre o un eroe nazionale che per la cui origine quindi si era iniziato a litigare fin dal secolo precedente rivedere la sua immagine come simbolo di eredità culturale condivisa come elemento di unione invece che di separazione può essere utile anche per bilanciare questa tendenza globalmente ormai molto rilevante e impossibile da ignorare e iniziare a identificare Colombo con un diverso significante storico tra gli altri aspetti che la mostra potrebbe approfondire degni di nota sono a mio avviso due temi il primo riguarda il contributo di Colombo al dibattito scientifico a lui contemporaneo mi riferisco in particolare alla questione del calcolo della longitudine terrestre che avrebbe avuto un ruolo molto importante pochi anni dopo il suo primo viaggio in America ossia nel 1494 quando Spagna e Portogallo si trovarono a Tordesillas per spartirsi il mondo in due emisferi quella circostanza determinata dalla scoperta colombina può essere a buon diritto ritenuta la nascita dell'odierno mondo globale in quella situazione per la prima volta nella storia un gruppo di scienziati ossia cartografi matematici cosmografi si riunì per determinare la posizione di un meridiano e stabilire di conseguenza un ordine politico nel mondo almeno dal punto di vista europeo l'identità colombina in tal senso si fa ancora più significativa quando nel 1529 due delegazioni sempre spagnole e portoghesi si riunirono per la stipula del trattato di Saragozza dove si stabiliva invece la posizione dell'antimeridiano rispetto a quello di Tordesillas questo processo di spartizione del mondo su base scientifica e razionale fu messo in moto proprio dall'arrivo di Colombo nel nuovo mondo pertanto un tema degno di approfondimento può riguardare la figura del navigatore non dal punto di vista strettamente biografico ma della sua eredità scientifica e culturale dal suo arrivo in America infatti iniziò il moderno processo di definizione dei concetti di continente e di oceano in conclusione un ultimo tema che può essere approfondito in collegamento con i due già accennati riguarda le altre figure di piloti e navigatori Liguri della prima età moderna parlare delle figure in un certo senso intorno a quella di Colombo che ne condivisero l'epoca il pensiero le pratiche di navigazione ma anche e soprattutto la cultura è un altro modo per guardare alla figura del navigatore genovese come eredità condivisa penso in particolare a Leone Pancaldo savonese e in rapporti professionali e di amicizia con la famiglia Colombo Pancaldo nato 30 anni dopo Cristoforo rispetto al quale è forse un po' meno noto al grande pubblico fu il pilota del Nau Trinidad partito nel 1519 alla volta delle Molucche nella spedizione guidata da Ferdinando Magellano durante il viaggio Pancaldo redasse un preziosissimo roteiro una rotta nautica non meno importante in termini storici del diario di Colombo come documento che attesta il sorgere di un nuovo mondo globale inserire in una mostra su Colombo quindi anche il ricordo di altri navigatori può risultare utile nell'aprire ancora di più un orizzonte plurale in cui inserire e leggere nuovamente l'immagine dello scopritore del nuovo mondo grazie a tutti Sì diciamo che il professor Salomone è entrato a piedi uniti in una delle finalità di questa riflessione che è nata oggi ma ci tengo a sottolineare non finisce oggi nel senso che si è messo a parlare di uno degli obiettivi che abbiamo indicato per un processo che nasce oggi in realtà è già iniziato all'interno del centro studi colombiano dentro i suoi organismi ma che abbiamo voluto dargli diciamo un nuovo inizio nell'ambito delle celebrazioni colombiane e che ci potrebbe condurre forse se ce ne sono le condizioni e se tutti danno il loro contributo a una grande mostra e credo che le idee che ha formulato il professor Salomone siano estremamente interessanti ma vorrei fare un passo indietro fare una cronaca telegrafica della giornata di oggi abbiamo registrato una certa vicinanza delle istituzioni che soprattutto questa mattina hanno portato il loro saluto abbiamo individuato dei cantieri di lavoro e abbiamo scoperto che all'interno di essi ci sono anche degli argomenti che noi non conoscevamo faccio qualche qualche esempio non sapevamo che ci fosse un'ode sinfonica dedicata a Cristoforo Colombo da un musicista in più genovese non sapevamo meglio non ricordavamo del tutto che una opera teatrale dedicata a Colombo fosse stata rappresentata per la prima volta a Genova non conoscevamo un Leopardi che scrive di Cristoforo Colombo in termini ottimistici non sapevamo che c'erano film dedicati a Cristoforo Colombo anche diciamo al di là del mainstream più o meno europeo o hollywoodiano e poi tante altre novità negli altri ambiti che abbiamo toccato abbiamo scoperto ad esempio e torno all'esempio musicale che ci sono delle persone giovani che fanno ricerca all'università su aspetti legati a settori collegati anche alla figura di Cristoforo Colombo un obiettivo di questo incontro di questo processo era anche quello di ampliare la rete del centro studi io vorrei dire su questo due cose da un lato non tutta la rete esistente del centro studi colombiano a cominciare dal comitato scientifico dal comitato di indirizzo erano oggi qua ma con questi stiamo lavorando nella stessa direzione e dall'altro lato abbiamo ampliato stiamo ampliando questa rete anche al di là di quelli che sono state le presenze le presenze oggi intanto oggi abbiamo avuto comunque delle new entries e di questo non posso altro che essere lieta ma vorrei dire che grazie anche al sostegno di soggetti importanti interessanti stiamo ampliando questa rete e cercheremo poi di mettere a fattor comune il lavoro che è stato fatto oggi con quello che stiamo facendo e faremo anche in questo caso voglio fare un esempio ad esempio il rettore dell'università di Genova che abbiamo incontrato un paio di mesi fa ci ha dato diverse piste di approfondimento sui temi colombiani una ha portato al professor Mingozzi ma ce n'è aperto tutta un'altra serie che vorremmo portare avanti un altro obiettivo di questo processo è che abbiamo anche esplicitato in sede di riunione dei nostri comitati di indirizzo scientifico progettare degli eventi adesso al di là della mostra che potrebbe essere un culmine diciamo di un percorso anche progettare eventualmente degli eventi tematici e così via credo che il lavoro che dovremmo continuare a compiere sarà anche quello non tanto per la mostra che penso tutti condividiamo dovrebbe essere rivolta ad un pubblico più ampio possibile nel senso ma per questi eventi più tematici a chi ci vogliamo rivolgere ci è parso di capire ma non solo da diciamo le sedie vuote qui ma da diversi altri segnali che mi giungono dal mondo culturale locale che c'è una certa diciamo un po' saturazione un po' stanchezza di eventi culturali e ce n'è come dire un florilegio infinito quindi un lavoro che io credo dovremmo compiere con gli organismi nel centro studi ma anche con gli altri soggetti che abbiamo coinvolto che ci hanno dato la disponibilità a lavorare con noi e che tenteremo di ampliare ulteriormente il novero di queste persone ecco a ragionare qual è la nostra finalità fare cultura beh insomma questo è pacifico nel senso questa è un'attività tipicamente culturale vogliamo promuovere la città di Genova è una cosa sicuramente degna e da perseguire assolutamente ecco credo che dovremmo mettere io vorrei mi piacerebbe personalmente che tutte le intelligenze e sono tante che siamo riusciti a coalizzare intorno a questo percorso altri ripeto spero ne coinvolgeremo ci portino a interrogarci su questo su questo punto fare cultura promuovere Genova parlare di temi di attualità tutte cose che il centro colombiano sta già facendo praticamente dall'inizio delle sue attività ecco mi piacerebbe e poi riprenderemo questo argomento costituendo anche dei gruppi di lavoro coordinati ma non esauriti dal comitato scientifico dal comitato di indirizzo del centro studi colombiano a esercitarsi a esercitarci su questo punto dove vogliamo arrivare quale messaggio vogliamo dare al di là di quello che è già stato fatto dal centro studi colombiano collegare la storia all'attualità alla discussione più ampia eccetera quindi la mia non è una conclusione è una sintesi diciamo di quello che è successo oggi di quello che è successo ieri che spero succederà domani e quindi ringrazio tutti quanti oggi eroicamente si sono insomma dedicati ad ascoltare questo nostro evento e do appuntamento ai prossimi passi grazie a cominciare dal 12 giusto dal 12 ottobre perché c'è una qualche novità forse si sembra le cose dei piccoli passi ma il 12 ottobre come tutti sapete c'è una celebrazione importante che organizza il comune di Genova una celebrazione di tipo istituzionale con una serie di appuntamenti fissi consegni di premi nomine di ambasciatori eccetera eccetera ebbene sorrido un po' perché non è che sia un evento eccezionale ma in una certa misura lo è nel senso che questa cerimonia ufficiale del comune sarà aperta dal video che avete visto qualcuno l'ha visto già un paio di volte ed ha una presentazione molto rapida ma questo secondo me la rende più efficace di quello che è il centro studi colombiano e quindi tutti invitati al 12 ottobre grazie è piccola ma grande come novità perché a Genova ma non solo in tutte le città spesso si va separati no? non si mettono mai assieme le cose non ci si coordina perché si pensa separati di vincere meglio non è così separati si perde e invece coordinarci è la cosa giusta forse perché io finché non vedo non credo forse il 12 ottobre ci sarà una piccola novità da questo punto di vista grazie arrivederci grazie grazie